Buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati, parliamo del Comune di Milano, delle elezioni, del nuovo Comune, della nuova Giunta che sta per arrivare, ma parliamo anche di politica nazionale. Buonasera anche a Jacopo Casoni. Buonasera, buonasera a tutti. Prima parte dedicata appunto soprattutto alla politica nazionale perché bolle qualcosa in pentola, forse non si sa, lo facciamo con Vinicio Peluffo, coordinatore del PD in Regione Lombardia. Buonasera. Buonasera. E bentornato Igor Jezzi, deputato della Lega. Prima facevamo il conto, non ci vediamo da prima del lockdown. Quindi rinauguriamo una stagione anche con Jezzi, anche perché stasera l'argomento è leghista. Diciamo che ci sono vari aspetti per cui la Lega è... Allora no, io vorrei partire dal problema della delega fiscale, da questa litigata, lite che c'è stata oppure no, tra Draghi e Salvini. Tu ci racconti retroscena, nel senso che sembrava quasi che ci fosse in vista, che fossimo in vista di una crisi di governo. In realtà non è una litigata, nel senso che i giornali tendono sempre a dipingere ogni nostra mossa come se fosse una mossa di quelle decisive, finali, definitive. In realtà non è così. Cioè noi abbiamo... è successo diverse volte da quando siamo al governo con Draghi... Diciamo che lui però si pone spesso in quella... cioè nel senso, per come le fa spesso uno è portato a pensare che sia una mossa... Stavo dicendo esattamente questo. Noi abbiamo votato diverse volte in maniera differente all'interno del Consiglio dei Ministri e l'abbiamo fatto anche in Parlamento su alcuni provvedimenti. Pochi giorni prima delle elezioni, per dire se ne è parlato poco, però credo che Perufo se lo ricorderà, abbiamo in Consiglio dei Ministri, ci siamo astenuti sul decreto proroghe perché conteneva la norma che dava un mese in più al referendo sulla cannabis. Quindi se noi facciamo un ragionamento molto semplice, noi stiamo al governo perché il discorso che aveva fatto Draghi quando si è insediato alla Camera era un discorso che ci aveva convinto e quindi era un discorso fatto di cantieri, di meno tasse, di riaperture, di vaccinazioni, campagna vaccinale, dimenticare Arcuri, questo tipo di ragionamenti qua. Beh sì, Arcuri in effetti è stato dimensato. Esatto, quando vediamo che si va in direzione diversa, lo facciamo notare, sulla delega fiscale ci sembrava ci fossero dei punti poco chiari, a cominciare, se ne è discusso molto, dalla riforma del catasto. Anche se Draghi ha detto più volte che la rivalutazione degli estimi catastali non porterà ad aumento delle tasse. Noi abbiamo chiesto allora che senso ha farla, il punto è perché proporre una riforma catastale che poi non ha degli effetti, avevamo dei dubbi, li abbiamo esposti, abbiamo avuto delle rassicurazioni, abbiamo anche parlato delle riaperture, tra l'altro siamo anche contenti. Adesso parliamo anche delle riaperture perché dopo ci colleghiamo con il presidente del SILB che è il sindacato dei locali da ballo, delle discoteche e quindi parliamo proprio Draghi non per aumentare le tasse, anzi come ha detto Draghi, tra l'altro stesso Draghi qualche giorno fa, questo è un momento in cui non bisogna mettere le tasche, le mani nelle tasche degli italiani ma semmai dare agli italiani. Quando abbiamo avuto il dubbio, il sospetto, il… Avete chiesto delle lucidazioni. Esatto, abbiamo chiesto delle lucidazioni. Allora è vero che in effetti se vengono rivisti gli estimi catastali, uno che non è del vostro settore pensa, beh se la mia casa valeva 100, adesso varrà 250, mi aumenteranno l'Imu, cioè se è la seconda casa ovviamente, è legittimo il dubbio oppure no Peluffo? Ma intanto secondo me la Lega deve decidere un po' che cosa fare, insomma non è la prima volta, cioè siccome di sostenere questo governo che l'ha ordinato il dottore, siccome questo è un governo che fin dall'inizio sappiamo quali caratteristiche ha, cioè questo è un governo del Presidente, il Presidente della Repubblica aveva detto signori o si va a elezioni oppure ci sono alcune priorità in questo Paese, chi è disponibile a sostenere questo governo? Ha un mandato molto preciso, il contrasto della pandemia, il piano vaccinale, PNRR, PNRR, adesso si comincia già a pensare a quello per fortuna. Ci sono 43 pagine dove sono indicate le riforme da fare per accompagnare in maniera tale che questi soldi, questi investimenti consentano una crescita stabile, qui se ogni volta che c'è da fare un provvedimento su una riforma è dai ed è tacco, dai ed è punta, dai che dai è la sua rassunta, come dicono a Roma, si vede che si sono abituati molto bene a stare a Roma, cioè un passo avanti e un indietro, secondo me diventa tutto più complicato. Ma non era giusto chiedere una delucidazione sul fatto che… Ma siccome quel provvedimento è stato mandato prima a tutte le forze politiche… E loro dicono che l'hanno avuto mezz'ora prima. …valutato, allora così come gli altri hanno avuto tempo e modo di valutarlo, lo hanno avuto anche loro. È successo anche che in Consiglio dei Ministri è stato approvato un provvedimento e poi dopo che l'hanno votato i Ministri leghisti la Lega diceva che non andava bene. Devono secondo me un po' decidere che cosa… E' vero che l'avete avuto mezz'ora prima. Così diventa più complicato fare quello che è utile e necessario. Poi invece sulla Delega, lì c'è scritto che non c'è un aumento di gettito rispetto a questo intervento, quindi non c'è un aumento della pressione fiscale. Quindi era già chiaro prima, tu dici? Era chiarissimo, l'ho anche detto in conferenza stampa. Allora, prima abbiamo visto il giochetto di Salvini l'hanno capito tutti gli italiani, cioè quello… Vi faccio vedere che se ci sono io non aumentano le tasse e provo a cercare di prendere voti. Qualcuno adesso ha scritto… Salvini ha più che ragione. Facciamola finita e andiamo a votare. Ma in realtà non è esattamente quello che vuole Salvini, altrimenti l'avremmo già fatto. Il problema è che quello che uno vuole o no sul voto non si può, quindi, cioè proprio per legge. Adesso c'è il semestre bianco. esatto. Adesso proprio non si può. Ma il problema è di Salvini che Giorgetti gli fa ombra, o lo scarica al volo o tornerà al 5%. Non è questo problema qua, guardi, c'è un atteggiamento assolutamente dialogante, il problema è che noi non accettiamo tutto quello che ci passa sotto il naso. Però se c'era scritto, Pelufo ci sta dicendo, che c'era scritto che non sarebbe aumentato il gettito. Ma questa cosa qua a me preoccupa ancora di più. Perché? Perché siccome si dice che poi nel 2025-2026 si rivedrà la questione, a me però preoccupa questa cosa. Che senso ha fare una riforma se non porta differenze? Cioè per quale motivo lo stiamo facendo? Cioè qual è il senso di fare questo? Si va a toccare l'ISE? Cioè c'è il rischio che alcune persone si ritrovino nell'ISE, il valore della casa? Cioè tu dici a che serve rivedere l'estimo catastale se tanto non cambiano le tasse? Non chiamatevi prego, mandate messaggi. Non ha senso mettersi a fare una riforma se poi questa riforma non ha degli effetti pratici, no? Cioè non penso che Draghi sia così pazzo da voler fare una riforma se non ha poi un effetto pratico, perché sennò chiunque direbbe. Beh lui dice intanto adeguiamo. Adeguiamo, l'adeguamento a cosa porta? A niente. Allora se non porta niente perché stiamo adeguando? Noi abbiamo chiesto un chiarimento. Se poi ci sarà il dibattito... Ma non è che... Faccio anche presente che qualche settimana prima in Commissione Finanze tutto il Parlamento aveva votato un documento che appunto non prevedeva la riforma del catastro, quindi anche qua il Governo deve imparare però ad avere un minimo più di rispetto del Parlamento, perché se il Parlamento ha già detto che non vuole la riforma del catastro e l'ha fatto attraverso un documento approvato in seno alla Commissione Finanze e non si può tornare ancora su questa cosa qui perché il Parlamento ci serve a qualcosa, se no per carità lo chiudiamo, noi stiamo a casa e per carità il problema non si pone. No, noi abbiamo chiesto un chiarimento. Se è così, se non diciamo... Però draghi gli accontenti. Ha stato l'IRPEF, non lo so. E alla fine per il totale è sempre lo stesso. Perché si parla anche di modificare la tassazione dell'IRPEF, di semplificarla mantenendo la progressività. Della riforma del catastro se ne parla da vent'anni mi sembra, più o meno. Più o meno è questo il periodo. Anche perché abbiamo un sistema di accatastamento per il quale ci sono persone che hanno una casa in zone semicentrali che con il meccanismo dei vani e nessuna considerazione rispetto al valore di mercato pagano di più di quello che dovrebbero pagare. In proporzione pagano di più invece di chi ha una casa... Quindi tu dici magari è anche un modo per risparmiare. Perché con il meccanismo dei vani tu rischi di pagare di più. Se fai una riforma non è che non tocchi niente. Allora, se uno dice facciamo la riforma del catastro non è che rimane un vano. A punto che chi ha una casa di proprietà per la quale paga di più di quello che dovrebbe pagare, forse questa dovrebbe essere una notizia interessante e utile. Se hai una casa in pieno centro, molto ampia, forse ci sta anche. Ah, ecco. Allora, però vedete che il dubbio della Lega è legittimo? Noi chiediamo proprio questo. Poi dopo raggiungiamo nel merito. Se gli ezi... Però il dubbio è legittimo. Se gli ezi consiglia. Se gli ezi considera che chi ha quella casa in una zona semicentrale paga di più di quello che dovrebbe dire finalmente intervenire su questo. Lo facciamo pagare meno. È sbagliato. Prendo atto di quello che... Però c'è anche quello che magari paga di meno. Io penso che questo sia uno strumento utile. Sì, ma ci sarà anche quello che magari è la casa in centro che attualmente paga di meno e pagherà di più. Però se se lo può permettere di pagare di più è un riequilibrio, come dire, dell'equità. Io sono d'accordo, ma allora cambia. Prendo atto che è cambiata la discussione rispetto a tre minuti fa. Eh sì. Però il problema è che stiamo facendo una discussione qui. Lui invece ha preso un pezzo di carta, è andato lì e ha detto, guarda, qua c'è scritto a questa roba, ha fatto vedere... Cioè, il problema è anche le metodologie con cui lui si pone rispetto a determinate cose, secondo me. Cioè, è molto elettorale. Succede quello che succede... Ma era successo dopo le elezioni. Succede dopo le elezioni. Appunto, dopo che ha, tra virgolette, perso o comunque sei... Sei andato male. Sei imputato di aver fatto qualche cosa. Ma l'abbiamo fatto anche tre giorni prima sulla cannabis. Sì, ma non è uscito con foglio in mano dicendo... Perché non è uscito? E' per quello che dico, io non dico altro, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Perché non rientrava nella narrazione. Siccome la narrazione in quei giorni là, prima del voto, era la Lega è divisa tra i governisti, i ministri che votano sempre con Draghi e la Lega Salvini che invece vota contro, siccome in quel caso i ministri avevano votato contro senza nessun tipo di problemi, i giornali non l'hanno detto perché sembrava una Lega compatta. Beh, ma non è neanche uscito lui col foglio, però. E' sempre i giornali. Quindi c'è anche un minimo... No, non è sempre colpa di il giornale, eppure se c'è qualche colpa credo che dopo la vedremo. Dopo parlando di fanpage, Vinicio cosa volevi dire? No, mi sembra curioso, c'è alcune dichiarazioni di Salvini, sono abbastanza curiose, me lo mette per iscritto, è un testo scritto. E ma lui ha detto una cosa che non gli torna. Il testo del provvedimento, cioè il governo non è che... Ma è vero che l'avete ricevuto 30 minuti prima. Fa provvedimenti, fa credere. Se lo dico ai nostri ministri... Cioè, voi il PD quante ore, quanti giorni l'ha ricevuto prima? Perché Salvini dice noi abbiamo ricevuto quel provvedimento mezz'ora prima, non c'era il tempo materiale per leggere questa cosa che stai dicendo tu. E per quello poi lui è andato a chiedergli. Lo traduco quello che ha detto Salvini. Allora, io non dico una cosa nuova quando dico che prima dei consigli di ministri ci sono i preconsigli in sede tecnica e ci sono i funzionari che hanno i testi prima. Ma guarda, è dalla notte dei tempi che funziona. La verità è un'altra. Insomma, io capisco che... Hanno voluto strumentalizzare. Ma no, ma no. Io capisco che Salvini ha preso una di quelle musate col primo turno delle amministrative che doveva far parlare d'altro. Io questo lo capisco. È un modo per deviare l'attenzione. Tra l'altro, guarda, è durato il tempo di fare due giorni sui giornali. Beh, no, poi si sono visti. Adesso è già tornata indietro. Ma tra l'altro è tornata indietro su cosa? Qual è la novità? Qual è la sostanza? Che Draghi gli ha detto stai tranquillo che non aumentano le tasse. Lui gli ha detto lo voglio per iscritto. Ma il provvedimento è scritto. Gli atti del governo sono atti iscritti. Ma di cosa stiamo parlando? Quindi va bene. Allora, ha preso quella musata, voleva far parlare d'altro. Per due giorni ha fatto parlare d'altro. Siamo sempre lì. È sempre il giro. È sempre il giro. Siamo sempre i punti di partenza. Io capisco che... Questo dico, decida un po' che cosa vogliono fare. Il PD non riesca a capire come si possa stare all'interno di un governo con la schiena dritta. Però noi abbiamo l'abitudine a stare all'interno del governo con la schiena dritta. Noi non diciamo sì a qualsiasi cosa ci dica Draghi come fa il PD. Noi abbiamo l'abitudine di leggere le cose. Adesso capisco che il PD non avendo una linea politica non può entrare in un rapporto dialettico con Draghi. Perché deve subire tutto quello che dice. Noi non siamo così. Noi ragioniamo con Draghi. Ma non vogliamo far cadere nessuno. L'abbiamo detto. Draghi andrà avanti. Beh adesso poi è anche impossibile. Sì da quando vorrà andare avanti Draghi. Per voi va bene. In realtà non si possono sciogliere le camere. Lui può anche cadere. Ah però no. Uno può anche decidere che deve andare a casa lui. Sì sì. Lo deciderà lui quello che vuole fare. Solo che non mi pare. Non mi pare. Ma non mi sembra. Non mi sembra. Lo deciderà lui. Però in un rapporto dialettico noi alcune cose siamo d'accordo su altre. No. Ma non è un dramma. Ma cioè a maggior ragione in un governo di questo tipo che non è un governo politico come mi sembra evidente. Ma è un governo appunto voluto dal Presidente della Repubblica su determinati problemi. Ma chiaramente ognuno dice la propria. Ma senza drammi umani. Non mi sembra che... Comunque c'è un po' di allarme anche a casa. C'è il senso che dice signori nella comunità europea siamo tra i paesi che hanno il più alto livello di tassazione. Un altro dice a te e a me che dovremmo fare le pulci a lui che ci mette... O meglio a lui. Sì a Pelufo. Scrive ai compagni. Vabbè. Che ci mettono le mani nelle tasche. Quindi ti invita a fare più un pungolo al pico. Ok. Diciamo così. Se gli essimi catastali vengono modificati Draghi ha detto bene le tasse non subiscono un ulteriore aumento. Ma nessuno sta dicendo che se il valore 1000 diventa 3000 la tassa del 4% non aumenta. Ma invece di pagare 40 tassi si deve pagare 120. Invece di pagare 40 di tasse si deve pagare 120. Mica scemo. Quindi vuol dire che aumenta? No. Se aumenta il valore il 4% rimane 4% ma è chiaro che su un valore più alto è più alto il 4%. Mi sembra caro. Quindi pago di più. Una roba banale. E quindi pago di più. Sì. Lui diceva, Peluffo prima diceva, ci sono alcuni che pagano cose per l'attuale normativa che in realtà non dovrebbero pagare o comunque pagano di più di quello che dovrebbero pagare. Altri che pagano di meno. Riequilibrando il tutto, riformando vuole riequilibrare Draghi. Non è che vuole mettere le mani in tutte le tasse. Riequilibrare vuol dire che uno che pagava troppo pagherà un po' di meno, uno che pagava poco pagherà un po' di più. Ma il gettito totale è sempre lo stesso. Oggi, non la Padania che purtroppo non c'è più come quotidiano, ma fa uno schemino. Chi? Fa uno schemino e dice che appunto, rivalutando la Repubblica, che mi risulta non essere un giornale vicino a noi, e dice che in periferia a Roma aumenta del 17%, ha il valore della casa, a Milano dell'87,2%, a Bologna dell'1,5%, a Genova dell'12,2%, eccetera. Ma non lo so, è uno schemino e non la paghi. Però per dirvi, il problema c'è. E allora che a Tastala ce l'ha anche la prima, però non paghi. Sic, stantibus, rebus, se cambiasse la legge. Quando decidi di venderla, incassi di più. Ma non la cambia la legge. Certo, no, giusto, giusto, però Perlouf ha detto una cosa giusto. Se la vendi, vale da casa. La prima tassa, la prima casa non paghi. Vedete, è il metodo, il metodo. Prima di entrare nel merito della discussione dovremmo capire quali sono gli effetti dalle debili. Perché se ci hanno detto che non cambia nulla, prendiamo atto che non cambia nulla. Se ci dicono che cambia qualcosa, valutiamo che cosa cambia. Però cosa succede una volta che facciamo la riforma del catastro? Vedete che durante la trasmissione stanno venute fuori idee diverse. Noi abbiamo chiesto chiarezza. Perché noi, la nostra storia, poi uno potrà essere d'accordo o meno, noi non siamo, addirittura non siamo per le tasse sulla casa. Figuriamoci su aumentare. La discussione è rispetto al leader della Lega che dice non va bene, mai poi mai, poi incontra Draghi e dice va bene. Cosa è cambiato nel frattempo? Il testo è cambiato? No, è stata una rassicurazione che ha dato Draghi. Il testo non è cambiato, perché noi parliamo di atti, giusto? Di atti, perché il governo fa degli atti. Allora, l'atto ha detto che non andava bene, dopo due giorni incontra Draghi, l'atto è cambiato? No, l'atto è sempre lo stesso. Adesso dice che va bene, punto. È già tutto detto qua. È già tutto detto qua. Va bene, adesso stiamo ripetendo questa cosa, replica. Quello del Consiglio dei Ministri non è un atto, è una delega. Che poi dopo verrà... Quindi non è un atto, quindi bisogna ragionare molto bene sulla delega, perché poi il Parlamento potrà avere un capitolo molto, molto limitato. Quindi non è un atto, non stiamo approvando un decreto legge, quindi ci sarà una delega. Quindi poi il Parlamento delegherà il governo a fare una cosa. Quindi bisogna capire, cioè non si può andare ad approvare una cosa così importante con la tassazione sulla casa, con l'esponente del PD che ci dice che aumenta, che non aumenta, che forse aumenta in centro ma non in periferia. Aumenta o no? Aumentano le tassi. Se Draghi vi era assicurato, vi ha detto che non aumenta adesso... No, ma poi c'è da fare la delega. C'è da fare la sede. Ma secondo me dovresti applicare un po' nell'attività parlamentare. Io devo fermare... Alcuni elementi te lo dovrebbero... Scusate, visto che parliamo di soldi e di tasse, noi dobbiamo mandare la pubblicità, che è fondamentale. Poi parliamo anche... Sono solda così? Sono solda, eh, lo so... Ah, ok, tassa. No, no, a tasse no. Pubblicità, mamma mia, pubblicità. Hai necessità di rinnovare il certificato di prevenzione incendi del tuo capannone, della tua otorimessa privata o condominiale? La River Spray è un'azienda specializzata nella stesura di vernici intumescenti e intonaci ignifughi in ambito edile e industriale. Proponiamo soluzioni certificate su qualsiasi supporto, come legno, acciaio e cemento armato, fino a 240 minuti di resistenza al fuoco. Eseguiamo preventivi e sopralluoghi gratuiti anche il sabato. River Spray, la tua protezione contro il fuoco. Oro da vendere? I compro oro non sono tutti uguali. Cashpoint paga subito in contanti oro, argento, orologi e diamanti. Massima quotazione e massima soddisfazione garantita. Cashpoint è a Milano, in Viale Zara 115. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Visita il sito cashpointitalia.it o chiama il 353-4236-495. Ora 100 diamanti, scegli i nostri contanti, meglio con Cashpoint. Alla MondoFlex siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso, consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Montale, memoria, cellule aperte, analergico e traspirante, scontato dal 40 più il 20%. Problemi di sudorazione? Pascoli, in Memory Breeds, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40%. E se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, Pirandello, realizzato con miscele ricavate da estratti vegetali, scontato del 30%. E con il primo acquisto riceverete la carta oro, che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto, anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondoflex, perché Mondoflex fa la differenza. Vi aspetto! Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it Resta in contatto con Telenova. Vai sul nostro nuovo sito www.telenova.it Scopri il palinsesto settimanale e tutta la programmazione, anche a partire dal tuo smartphone. Rivedi le nostre trasmissioni sulle playlist o le dirette streaming. Interagisci sui nostri social Facebook, Telenova Milano e Nova Stadio. Instagram, Telenova14 e Nova Stadio underscore Telenova. Twitter, Nova Stadio, Telenova. Sul canale 14 e sul web www.telenova.it Allora devo dire che su questo tema mi sa che non andiamo avanti perché si avvitano sempre sugli estivi catastali, eccetera. È un tema tecnico. È un tema tecnico. Bisognerebbe che lui soprattutto ci spiegasse proprio il filo per sé. Ma essendo una legge delega abbiamo il tempo ancora di capire, ma io volevo toccare il tema delle riaperture. Mi ci hanno già spiegato. Sì, tra poco ci colleghiamo col presidente dell'associazione dei locali da ballo. Ma prima di quello vediamo il servizio che ha preparato Michele Lanati che parla di che cosa riapre e quando. Perché stiamo andando lentamente verso la normalità. Servizio. Cambiano le percentuali della capienza nei locali. La proposta, approvata all'unanimità in Consiglio dei Ministri, riguarda posti coperti al 100% in cinema e teatri, 60% per i palazzetti dello sport e 75% negli stadi, 50% per le discoteche al chiuso e 75% per quelle all'aperto. Cinema e teatri riusciranno a tornare alla normalità grazie anche all'abolizione della distanza interpersonale di un metro per i musei e altri istituti e luoghi della cultura. I provvedimenti entreranno in vigore l'11 ottobre nei locali che si trovano in zona bianca. Il CTS aveva suggerito però una capienza massima per le discoteche al 35% al chiuso e al 50% all'aperto. Ma il governo ha deciso di concedere un ulteriore allentamento delle misure anche per andare incontro alle richieste dei gestori. L'aumento della capienza, peraltro, era stato chiesto a gran voce anche dal mondo dello spettacolo. Dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso delle certificazioni verdi Covid-19, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura potrà essere da 1 a 10 giorni. In zona gialla le percentuali prevedono invece per stadi e palazzetti una capienza massima consentita all'aperto del 50% e al chiuso del 35%. Stiamo andando appunto verso la normalità, questo vi rende contenti? Questa è una buona notizia, alcuni settori sono stati aperti in maniera totale, altri hanno ancora delle limitazioni. Io credo che per esempio le discoteche al 50% sia poco, però oggi sulle agenzie ci sono ancora esperti, tra virgolette, tipo Crisanti, che dicevano che secondo lui bisognava tenere più bassa la percentuale al 35%, quindi diciamo il clima non era propriamente favorevole a essere riusciti ad aprire al 50%, io già lo considero una cosa comunque positiva. Nessun virologo ha parlato di oddio adesso ritorneranno, i valori si alzeranno, nessuno l'ha detto, quindi secondo me a questo punto c'è un... però Crisanti oggi dice che lui avrebbe preferito il 38%, ma c'era un clima, però va bene, insomma, l'importante è che si vada... La premessa è che serve il Green Pass per tutte queste cose. Ma ecco, questa cosa del Green Pass, però era quello che... questa la voglio dire perché so che me la chiederete. Ecco, questa è una misura, come dire, incoerente col Green Pass, cioè quello che noi contestavamo era, ma scusate, ma facciamo il Green Pass, costringiamo tra l'altro 15 ottobre e poi ci sarà il problema dei lavoratori che non ce l'hanno e su questo bisognerà anche capire come funziona e intervenire. Però noi dicevamo, scusate, ma ci siamo inventati questa cosa del Green Pass e allora le attività devono riaprire, però sennò che senso ha fare il Green Pass e non avere le attività che riaprono? Ecco, qua si va verso una riapertura delle attività e finalmente, diciamo, si vede la luce in fondo al tunnel. Purtroppo la luce costa tanto e questo... Questo sta aumentando anche. È un problema, però il fatto che si vede la luce in fondo al tunnel è già qualcosa. Va bene. Pelufo, sì, è vero che, come posso dire, è coerente col Green Pass. Io ho il Green Pass, quindi io sono vaccinato, sono tamponato, sono guarito, quindi posso stare vicino a te e a lui. Cioè, è giusto questo, no? Ma in realtà questo è quello che stiamo facendo da diversi mesi, cioè il ritorno della normalità passa attraverso il piano vaccinale, il vaccinarsi tutti... Beh, da quando c'è l'obbligo del Green Pass in tanti posti sono aumentate le richieste di vaccinazione, quindi vuol dire che è servito anche come sprone, no? Sì, anche perché abbiamo detto per tornare alla normalità lo strumento potentissimo che abbiamo è quello del vaccino, quindi puntare sulla campagna vaccinale e progressivamente tornare alla normalità, perché quello che stiamo facendo da diversi mesi è gradualmente, settore per settore, riaprire in maniera graduale accompagnando sempre con l'incentivazione, il sostegno economico ai settori più colpiti. Questo è quello che stiamo facendo da diversi mesi e i risultati che si stanno ottenendo è in relazione a questa strategia, a queste scelte. No, ma voglio dire... Questo dibattito ogni volta un po' di più, un po' di meno sta dentro... Cioè aprire un po' di più, aprire un po' di meno? Sì, nel senso che su ogni provvedimento ogni volta c'era chi chiedeva più, uno più... No, però... Però ci sono dei settori che dicevano, scusami, mi dici che il Green Pass è il modo di farmi lavorare e poi alla fine devo fare il 50% di una sala quando in realtà... Sono tutti con il Green Pass e quindi volevano qualcosa di più veloce. Attraverso la fatica di tutti e la scelta dell'accompagnamento di ogni passo, perché c'è stata la gradualità delle aperture accompagnate anche dal sostegno economico dei settori più colpiti. Stiamo entrando in una situazione dove ci ricordiamo dove eravamo l'anno scorso, no? Grazie alla vaccinazione stiamo tornando alla normalità. Io penso che sia questa la scelta di fondo per questo, questo insistere che c'è stato su diversi provvedimenti per posizionarsi nel rapporto con l'opinione pubblica io sono quello che chiede di più. No, la cosa fondamentale è essere riusciti ad accompagnare il Paese tutto a questa situazione, che è quella che ci consente di affrontare con una certa fiducia un clima di ripartenza. Questo è quello che ha fatto lui. All'estero anche gli stadi sono aperti al 100%, perché in Italia no, che senso ha, non mi fido dei nostri scienziati, ma molto meglio di più di quelli all'estero. Vabbè, sono scelte politiche, no? Ogni Paese ha fatto le sue scelte. Infatti hai visto durante gli europei, ci ricordiamo, no? Che le sedi erano in diversi Paesi europei, con approcci diversi, abbiamo visto anche qual è stata l'incidenza nei diversi Paesi rispetto all'andamento della pandemia. Comunque sicuramente l'aver messo come condizione sine qua non in queste aperture progressive, come dice Pelufo, il Green Pass, ha spinto da una parte a vaccinarsi di più, perché è chiaro che se uno non può andare da nessuna parte magari si convince. E dall'altra parte anche a combattere il virus, perché chiaramente più vaccinati siamo e più il virus non si replica, quindi ha avuto una doppia utilità. Allora adesso facciamo così, mandiamo la fascia e poi ci colleghiamo appunto col Presidente dell'Unione delle Stalle da Ballo, dell'Emilia Romagna, perché in Emilia Romagna ce ne sono parecchie, soprattutto quelle all'aperto. Anche se adesso quelle all'aperto mi sa che ormai... Esatto, perché poi il problema è che fino all'altro giorno un sacco di locali che non avevano una licenza da discoteche facevano ballare lo stesso, quindi quello era anche il motivo per cui i gestori delle Stalle da Ballo erano incavolati, perché dicevano io sono regolare tutto e non posso aprire, quello dietro di me fa le cose che non è una strada da ballo. Quello è il punto. A tra poco. Oro da vendere? I compro oro non sono tutti uguali. Cashpoint paga subito in contanti oro, argento, orologi e diamanti. Massima quotazione e massima soddisfazione garantita. Cashpoint è a Milano, in Viale Zara 115, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Visita il sito cashpointitalia.it o chiama il 353-4236-495. Ora 100 diamanti, scegli i nostri contanti, meglio con Cashpoint. Dottore, ho un piccolo problema che potrebbe diventare più grande. Non si preoccupi, ha chiamato il dottore giusto. Ho notato il danno al parabrezza, ho chiamato il numero verde e mi hanno fissato subito l'appuntamento nel centro Dr. Glass più vicino a me. Hanno effettuato l'intervento di riparazione e in poco tempo mi hanno riconsegnato l'auto. Sono stati velocissimi, pensano a tutto loro, anche alle pratiche amministrative. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. C'è qualcosa di nuovo in città. L'esperienza del gruppo Fassina incontra il glorioso marchio MG e la sua gamma di vetture ibride ed elettriche. Un vero concentrato di tecnologia ed efficienza, con 7 anni di garanzia e ben 5 stelle Euron Cup. Affidabilità e sicurezza, ma anche interni spaziosi confortevoli e ricchi di funzionalità intelligenti. C'è una MG e HS plug-in hybrid adatta ad ogni stile di vita. Vieni a scoprirla e a provarla da Fassina. In via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, intervisti ad attori e cantanti e i grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Alla Mondo Flex siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Montale, memoria, cellule aperte, anallergico e traspirante, scontato del 40 più il 20%. Problemi di sudorazione? Pascoli, in memory bridge, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40%. E se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, pirandello realizzato con miscele ricavate da estratti vegetali, scontato del 30%. E con il primo acquisto riceverete la carta oro che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto, anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondo Flex, perché Mondo Flex fa la differenza. Vi aspetto! Allora, eccoci qua. Siamo collegati con Gianni Indino. Buonasera, che è il presidente del Silbe, che è il sindacato che raggruppa le sale da ballo e le discoteche dell'Emilia Romagna. Buonasera Indino. Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, senta, discoteche aperte al 50% al chiuso e al 75% all'aperto. Quanto siete contenti? Beh, non si può usare questo aggettivo, contenti, no. Diciamo che siamo in qualche modo parzialmente soddisfatti, perché finalmente c'è stata data una data di riapertura. Si è sparciato un velo sulla nostra situazione. Dobbiamo ringraziare tutta la politica che da estra a sinistra si è adoperata negli ultimi giorni per far sì che si arrivasse ad una soluzione condivisa, anche se non nei numeri e non nelle indicazioni che in qualche modo ci sono state date. Sono delle indicazioni che subiamo, però per noi sono un viatico per ritornare a lavorare, per ritornare a vivere, ma soprattutto ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso che gradualmente ci porterà alla riapertura totale, in sicurezza e con i controlli che sono necessari per salvaguardare anche la salute di tutti gli italiani. Il CTS aveva dato un parere più restrittivo, no? Secondo il CTS avreste dovuto aprire con percentuali più basse, quindi il governo è stato magnanimo questa volta? Sì, prendiamo atto di questo, però il 35% non avrebbe aperto nessuno, in quanto è un'operazione anti-economica, non ci avrebbe consentito di raggiungere il break-even che poi consentisse di poter fare economia. Noi con il 50% pensiamo, l'abbiamo tradotto in questo senso, 50% ok, avremo risorse per poter pagare i dipendenti, i fornitori e tutto quello che è necessario per mettere appunto una macchina che ferma da due anni e che ha bisogno di essere orati. Bene, questo percorso ci servirà per poter dare continuità alla nostra macchina organizzativa e mettere in grado il locale di iniziare nuovamente a vivere, a lavorare, a produrre, cosa che con il 35% non sarebbe stata possibile. Senta, in tutti questi mesi di chiusura avete quantificato le perdite, quanto avete perso percentualmente, chiaramente ogni locale da ballo quanto ha perso percentualmente? Il 100% all'anno, per cui il 200% ha perso, cioè no, quello che intendo dire è inutile fare stime, L'hanno dato. arrivare a riapertura. Oggi ci siamo arrivati, ci siamo arrivati anche perché c'è stata da parte nostra una presa di posizione forte, in quanto non eravamo più disposti ad accettare una situazione di questo tipo, ormai aveva riaperto tutto in Italia. Io torno oggi, si può dire, da Madrid, dove sono recato al lavoro e a Madrid è tutto aperto, insomma. Si balla tranquillamente, non chiedono neanche il Green Pass, ma io non voglio polemizzare sull'uso del Green Pass. Per me è un sistema che può essere adottato se riesce a garantire in qualche modo la sicurezza di cittadini. Certo. Senta, noi qua, via via, un esponente del Partito Democratico e un esponente della Lega. Vuole dire qualcosa ai due esponenti dei partiti? Cioè, lei ha sentito più vicino un partito rispetto che un altro o ha avuto la vicinanza da parte di tutti? O tutti distanti, come dice il mio collega? No, no. Non posso dire, vivendo in Emilia-Romagna, ho avuto l'appoggio totale incondizionato dal primo giorno di Stefano Bonaccini, che ringrazio. Però devo dire che anche la Lega si è comportata molto bene con tutti i suoi parlamentari. Ho avuto modo di incontrare, come mi è parso di poter dire prima fuori onda, che ho incontrato veramente tutti, da Salvini a Letta, a Bersani, a Conte, a Cagliani e, credetemi, Giorgetti. E tutti hanno dimostrato attenzione, tanta attenzione alla nostra situazione e finalmente questa attenzione si è tramutata in un risultato. E infatti, li ha incontrati tutti, però aprite domani. Ecco. No, mi scusi. Appunto, no, nel senso, aprite sempre domani. Li ha incontrati, ci ha parlato, erano tutti disponibili, però... Ebbè, però se il CTS non dava via libera, è mica colpa dei partiti. Non ho capito, però bisogna anche... Ho polarizzato abbastanza in questi anni. Oggi mi godo questo semisuccesso e penso che sia arrivato il momento di sederci a un tavolo, anche se... E cosa che non abbiamo mai fatto è che se devo rimproverare qualcosa alla politica, rimprovero questo. Non aver mai accettato un confronto con il nostro sindacato. C'è mai stato questo. Cioè, per me non è confronto se vengo a una commissione o se vengo a un'audizione in Senato o alla Camera. Io avremmo preferito un confronto con le parti, sederci e dettare insieme un percorso, un'agenda che ci avesse portato al risultato odierno. Forse saremmo riusciti a ottenere qualcosa di più, anche Ina, con un po' di amici. Questo è il rimpianto. Volete dirgli qualcosa, fargli una domanda, fargli un saluto ai due esponenti che ci sono qui, no? Io le auguro in bocca al lupo, davvero. La Lega dice un bocca al lupo. So quello che sappiamo, lo sappiamo tutti, quello che hanno patito in questi mesi. Tra l'altro abbiamo sempre considerato inspiegabile questa cosa nei confronti delle discoteche. È sembrato quasi un accanimento. Un accanimento verso di lui. Il problema non è, come si diceva prima, l'1% in più di apertura, l'1% in meno. È che appunto noi sottolineavamo e sottolineiamo, in parte ancora, l'incoerenza di uno strumento come il Green Pass, che dovrebbe servire per aprire con invece attività che sono ancora chiuse. E con loro non è servito. Adesso si va in questo passo. Io mi auguro che, diciamo, oltre a quel 10% che diceva il signor Indino di attività che hanno chiuse, le altre possano ripartire con, come dire, relativa tranquillità. Certo. Vinicio vuoi dire qualcosa? No, questo è un altro passo importante verso il ritorno alla normalità e poi nelle parole di Indino ho trovato tanta consapevolezza, tanta responsabilità e tanta proiezione verso le prossime settimane, i prossimi mesi e credo che il riferimento di un percorso concertativo che prima non c'è stato, che adesso però rispetto a un settore che ha bisogno di consapevolezza complessiva, investimenti, sguardo sul futuro, sia assolutamente fondamentale. Jacopo, l'ultima cosa, poi le lasciamo. Aspetti, se vuole rispondere. Volevo direvi questo. Leggevo oggi le notizie ANSA che riportavano che svariati milioni ancora di italiani di età tra 19 e 29 anni non hanno ancora avuto la dose di vaccino. Noi ci auguriamo di essere in questo modo, con queste nostre aperture, corriere di novità, di nuove iniziative, di slancio a favore dei vaccini e che questi ragazzi vadano a vaccinarsi perché vogliono venire a divertirsi, vogliono venire a ballare, a ritrovare quella serenità che in questi mesi, in questi anni hanno perso. Volevo andare in discoteca. Ma sì, ma anche fuori. Qualcuno mi diceva che voleva organizzare anche fuori delle campagne di sensibilizzazione eventualmente. Con la siringa che ti seguono nella pista da ballo. Io ho letto che quando balli ti puoi togliere la mascherina. Giusto? Poi però te la devi rimettere. Allora io volevo capire, avete capito chi deve fargliela rimettere a questi la mascherina? Perché io ho questo dubbio. Cioè io sto ballando, non so bene come funzionerà da qua. Funziona così, io sto ballando senza. Stiamo ballando senza. Stiamo ballando senza. Io ormai io ballo da tutta la mia paella. Stiamo ballando senza, poi vado a sedermi e zack me la devo mettere. Funziona così, no? Sì, è così. Sembra una macchietta, una sceleggiata napoletana, ma è così. Al bar si potrà bere tranquillamente, senza mascherina, però appena ti sposti un metro dal bar devi lo sapere nuovamente. La cosa che mi conforta, e spero di non sbagliare dicendo questo, è che nei locali, oggi come oggi, non esiste più un luogo definito per il ballo. Negli anni 80, 90, 2000, c'era la pista per ballare. Oggi questa è andata via via riducendosi ed è quasi scomparsa. Molti ballano sul posto, al tavolo, dove sono in compagnia di amici, per cui penso che nel momento in cui si alzeranno i piedi, inizieranno a ballare, non avranno una mascherina. Quando si siederanno, essendo seduti come al ristorante, non dovranno indossare la mascherina, sarà da indossare la mascherina solo, esclusivamente, per quelli che vanno a caccia, nella serata, per cercare di accorciare il spazzamento. Mi ricordo che... Che è drammatico, perché chissà chi... Cioè, nel senso... Perché non lo vedi, già è buio. C'è pure la mascherina. Il problema non dovrebbe esserci della mascherina, perché insomma, ai miei tempi in discoteca, appunto, o ballavi, o avevi il bicchiere in mano, oppure andavi a caccia. Era una delle tre. Quindi la mascherina è un problema. Però in realtà è il controllo, chi lo deve fare, Indino? Voi? Sì. Sì. Lo dobbiamo fare noi, assolutamente sì. Dobbiamo farlo noi, ma creda, saremo molto attenti e vigili, e inviteremo i nostri associati a rispettare le regole, i protocolli, che in qualche modo ci siamo dati, perché è un segno in qualche modo che dobbiamo dare al Paese intero, dimostrando la nostra professionalità e la nostra disponibilità al contributo per la sconfitta della pandemia. Noi possiamo essere in grado di poterlo fare, possiamo essere un veicolo anche dimostrativo per i ragazzi. Sì, sì. Grazie. a ricomportarsi in maniera molto, molto delicata. Va bene, grazie, Indino. In bocca al lupo, allora, per l'11 riapriamo tutto. Verremo a trovarla nel miliardi. Crepi il lupo, va bene. Buon lavoro, a presto. Viva il lupo. Se no, gli animalisti... Adesso abbiamo creato un dramma. Sì, è vero, il lupo, per carità. Viva i lupi. Viva i lupi. Arrivederci. Salve. Allora, mandiamo la pubblicità e poi facciamo arrabbiare la Lega. Dopo aver fatto arrabbiare Fratelli d'Italia, tra poco. Pogliani Moto. Non è solo moto, ma anche tutto un mondo di abbigliamento e accessori. Qui potete trovare caschi, giubini, paraschiena, quindi protezioni, guanti, venite qui. C'è tutto. Pogliani, accesso San Giovanni. Alla Mondo Flex, siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso, consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie, montale, memory a cellule aperte, analergico e traspirante, scontato del 40% più il 20%. Problemi di sudorazione, pascoli, in memory breath, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40%. E se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, pirandello realizzato con miscele ricavate da estratti vegetali, scontato del 30%. E con il primo acquisto riceverete la carta oro che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto, anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondo Flex, perché Mondo Flex fa la differenza. Vi aspetto! C'è qualcosa di nuovo in città! L'esperienza del gruppo Fassina incontra il glorioso marchio MG e la sua gamma di vetture ibride ed elettriche. Un vero concentrato di tecnologia ed efficienza, con 7 anni di garanzia e ben 5 stelle Euron Cup. Affidabilità e sicurezza, ma anche interni spaziosi confortevoli e ricchi di funzionalità intelligenti. C'è una MG e HS plug-in hybrid adatta ad ogni stile di vita. Vieni a scoprirla e a provarla da Fassina. In via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano. Oro da vendere! I compro oro non sono tutti uguali. Cashpoint paga subito in contanti oro, argento, orologi e diamanti. Massima quotazione e massima soddisfazione garantita. Cashpoint è a Milano, in viale Zara 115. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Visita il sito cashpointitalia.it o chiama il 353 42 36 495. Ora cento diamanti, scegli i nostri contanti, meglio con Cashpoint. La Chiesa nella città, il magazine di informazione religiosa della Diocesi di Milano. Tutto ciò che accade, la storia, la cultura, l'attualità ecclesiale e naturalmente il magistero dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini. La Chiesa nella città, Telenova, canale 14, ogni giovedì alle ore 18.30. E su Chiesa TV, canale 195 del Digitale Terrestre, ogni sabato alle 18.40, dopo la messa vigiliare in diretta dal Duomo di Milano e il tradizionale appuntamento delle ore 13, la domenica. La Chiesa nella città, la tua finestra aperta sulla Diocesi di Milano. Allora, inchiesta Fanpage, la scorsa settimana, anzi no, due settimane fa o la scorsa, abbiamo parlato di questo finanziamento sospetto che viene debitato da alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, l'inchiesta sulla lobby nera, tutto venuto fuori da Fanpage, trasmesso a Piazza Pulita e questa volta è stata la volta invece della Lega, non per quanto riguarda il finanziamento illecito ma solo per la frequentazione di ambienti neri. Vediamo il servizio di Michele Ranati che spiega un po' su cosa averti l'inchiesta di Fanpage e poi ne parliamo. La Procura di Milano ha disposto l'acquisizione, attraverso il lavoro della Guardia di Finanza, dell'intero girato con cui è stata realizzata la seconda puntata di Fanpage sulla cosiddetta lobby nera e che riguarda in particolare una presunta alleanza tra il gruppo di Roberto Ionghi Lavarini, Lealtà Azione e alcuni esponenti della Lega. Puntata andata in onda ieri nel corso della trasmissione di La Sette, Piazza Pulita. L'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, in relazione all'inchiesta giornalistica di Fanpage, oggi ha fatto sapere di aver dato mandato ai suoi legali di predisporre una denuncia nei confronti di Ionghi Lavarini in caso abbia commesso un reato utilizzando il suo nome e precisato che i rapporti tra lui e Ionghi Lavarini sono inesistenti. Ho anche dato mandato di predisporre denuncia nei confronti di chi abbia diffuso o diffonda false notizie su presunti comportamenti irregolari a me attribuiti danneggiando la mia immagine e la Lega, ha aggiunto Ciocca. Il consigliere regionale Lombardo del Carroccio, Max Bastoni, in merito ai suoi rapporti con il movimento di destra Lealtà Azione emersi nella seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage, ha spiegato a Lanza di rispondere solo alla Lega, al segretario Matteo Salvini e ai militanti del Carroccio. Non rispondo ad altri, ha precisato Bastoni, che ha deciso di querelare il conduttore di Piazza Pulita, Corrado Formigli, per avergli attribuito frasi che sostiene di non aver mai pronunciato. Pelufo oggi ho letto un lancio d'agenzia in cui tu dici che Salvini e Fontana devono chiarire la situazione, la posizione, ma in che termini? Cosa volevi dire? Guardi, io ieri sera non avevo visto il servizio che era in giro per la campagna dei balottaggi, c'era Stefano Bonaccini di cui si parlava prima. Ad Arcore e a Caravaggio. L'ho rivisto stamattina questo servizio, invito che lo ritiene di guardarlo, nel senso che ci sono diverse dichiarazioni fatte da esponenti della Lega, soprattutto Bastoni, di vicinanza, movimenti di estrema destra come Lealtà Azione. Che già si sapeva. E professione anche, in più di un passaggio, si definisce fascista. Io penso che questo sia il punto politico della Lega. Lui dice che sono orgoglioso di mio padre che era fascista, dice questo nel servizio. Poi c'è in un altro passaggio davanti a un bar, mi sembra, in campagna elettorale un comizio che fa con Borghezio. Poi ci sono anche le dichiarazioni di Borghezio. Che parla della terza Lega. Che ruolo abbia all'interno della Lega. Bastoni è consigliere regionale, esponente di spicco della Lega. Il punto politico è questo. Gli altri aspetti, finanziamenti, cose, non ti so dire. No, beh, sulla Lega non c'è niente. Eventualmente sarà la magistratura. Io quello che ho visto del filmato e che credo che sia il punto politico è questo. Se la Lega è in grado di prendere distanza da esponenti che usano questa terminologia, hanno questa prossimità con frange di estrema destra. Questo è il punto politico. In realtà, io mi ricordo, Bastoni, più volte sollecitato anche dai cronisti. ha detto, sì, io mi sento vicino in alcune cose, in alcuni valori, in alcune convinzioni a determinati ambienti. Cioè, l'aveva tranquillamente confesso. Si poteva anche chiedere prima, dico, per Uffi. Quando ha aperto la sua sede elettorale per la campagna del ricordino, infatti io sto ponendo il punto politico. No, no, ma certo, però il problema è che non mi sembra che sia una cosa così da inchiesta. Posso fare solo due piccolissime premesse e poi dopo entro nel tema. Uno, abbiamo assistito nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, anzi nei giorni scorsi, a un linciaggio nei confronti di uno dei nostri amici, Luca Morisi, che è stato linciato e, permettetemi il tema, sputtanato in una maniera allucinante, con i suoi messaggi privati messi sul Corriere della Sera come se nulla fosse e lui non ha commesso assolutamente nulla, verrà archiviato tutto, non c'è nessun tipo di reato se non la sua vita personale. Quindi abbiamo assistito chiaramente, però la notizia dell'archiviazione è arrivata dopo le elezioni, mentre per una settimana antecedente alle elezioni siamo stati oggetti di uno sputtanamento assoluto che ovviamente ha colpito Morisi per colpire la Lega e per colpire Salvini. Giustamente prima veniva, fatelo, veniva invitato da Perufo a guardare il servizio. Ecco, in quel servizio, per esempio, non troverete una cosa molto particolare ed è strana, voglio dire, che denota un po' l'atteggiamento di Fanpage e di Piazza Pulita. Non troverete il giornalista che va da Bastoni a proporgli la stessa cosa che aveva proposto a Fidanza, cioè di un finanziamento in nero, con Bastoni dice di no. E questa cosa è un po' strana, perché era una notizia giornalisticamente interessante considerato il servizio che avevano fatto la settimana prima, perché il vero reato sarebbe stato quello di, reato potenziale, quello di prendere dei soldi in nero. Bastoni ha rifiutato, però questa cosa non è stata neanche citata all'interno del servizio di Fanpage e questo fa riflettere su come si vuole fare un certo modo di giornalismo, diciamo, non teso a vedere la verità, ma teso a condire. Ma l'abbiamo detto noi per primi, che la puntata di ieri non parlava di un problema di finanziamento illecito. Ho scoperto che Borghezio prende voti dall'estrema destra, cioè, voglio dire, penso che loro avranno fatto decidi di comunicare, centinaia, migliaia di comunicati negli anni passati su Borghezio che era uomo di destra. Fammi precisare che Borghezio oggi, aspetta, aspetta, quando si parla di terza lega nel filmato, oggi Borghezio ha risposto dicendo io parlavo dei militanti, non dei fascisti. Però questa è la risposta che ha dato Borghezio. Bastoni, che lavora con i ragazzi di alta azione, lo si sa, voglio dire, da una vita, come giustamente veniva sottolineato, ha aperto la sua sede elettorale all'interno di una sede di alta azione. Faccio presente che la alta azione non è un gruppo sciolto dal prefetto, voglio dire, perché il prefetto può sciogliere dei gruppi che sono, diciamo, accusabili di ricostituzione del partito fascista. Ciascuno può dire che c'è un'opportunità o meno politicamente di muoversi in quel modo. Però sono discorsi diversi. Bastoni non ha mai detto io sono fascista. Lui dice, cosa che ha detto spesso e che lo dice sempre, ma perché l'ha detto anche in eventi pubblici. Cioè che lui non è fascista, ma non considera il termine fascista. Un'offesa in particolare nel servizio faceva riferimento, e permettetemi, credo che sia una cosa normale, considerate che tirava in ballo suo padre, che suo padre è un punto di morte. Aveva detto io sono fascista, però è una roba, diciamo, sua, personale. Tra l'altro questi servizi montati con immagini dove non c'entrava nulla la Lega, Bastoni, manifestazioni davanti alla targa di Sergio Ramelli con Saluto Romano, mischiate poi a eventi pubblici di campagna elettorale di Bastoni, con poi delle immagini sottrate col giornalista agente provocatore di cene private. Cioè questo miscuglio, che poi non fa capire, quando lo vedrete, che quelle immagini col braccio alzato, fatte davanti alla targa di Sergio Ramelli, non c'entrano nulla con le iniziative della Lega o di Max Bastoni, che io tra l'altro non voglio difendere, perché si difende benissimo da solo, e infatti ha già detto, ha già annunciato, insomma, che chiederà, insomma, querelerà Formigli per alcune frasi che ha detto, perché appunto Bastoni non ha mai detto io sono fascista, sono razzista, perché ovviamente, voglio dire, si parla normale che uno possa dire una roba del genere. Quindi, cioè, è una cosa montata d'arta. Poi, voglio dire, lo scopo è evidente, no? È chiaro qual è. Beh, però è stato, non tiene la logica dell'inchiesta a orologeria, perché ormai le elezioni ci sono state. Sì, però il grosso, noi ci hanno colpito con Morisi, il grosso l'hanno fatto con Fratelli d'Italia prima delle elezioni. Ma Fratelli d'Italia è l'unico dei vostri che ha guadagnato voti, eh? Quindi non è che è stato... Non c'entra che però... No, nel senso che se fosse stato per quello... Non è quello del previsto, però il senso è che loro hanno tentato di colpire Fratelli d'Italia con questo servizio qua, voglio dire. Poi, per carità, poi sono due robi diversi... Però anche la Meloni si è arrabbiata. Sì, sì, ma infatti, ma perché? Il problema è un altro. Anche io trovo un po' curioso questi continui contatti con Iunghi Lavarini che nel panorama milanese lo conoscono tutti. E la Meloni l'aveva proprio allontanato e quindi non capisco cosa ci faccia con bastoni, cosa ci fa con ciocca. Anche tu ti chiedi perché, ecco. Sì, però... E' quella l'unica cosa... La Meloni stessa pare che abbia detto, l'avevamo allontanato, come si fa a ricogliarsi questo per avere 30 voti in più. Parole della Meloni. Cosa dici, venuto inicio? Quindi... Che per Igor Riezi è normale che un esponente della Lega come bastoni abbia queste frequentazioni, queste possibilità... No, ha detto di no. ...e queste dichiarazioni. L'ha appena detto. Con lealtazione, il punto politico è questo qua. Perché per voi, la Lega Nord, Forza di Governo, in Regione Lombardia, è un'organizzazione che si dichiara fascista. Non si dichiara fascista. Per loro è normale. Per loro è politicamente... Si richiama all'estrema destra. Non so se un serbine è fascista. Se si dichiarasse fascista, interviene il prefetto. Guarda il filmato, visto che... Lo hai visto e l'hai richiamato. Ok, però non c'è nello statuto, diciamo. Quello intendevo. Dillo al prefetto. Si dichiara fascista, dillo al prefetto. Così come nelle immagini... Comunque, nelle immagini, visto che hai richiamato il servizio, nelle immagini, quando ci sono le immagini degli scontri qua a Milano tra gli esponenti di lealtazione e le forze dell'ordine, lì in mezzo c'è bastoni. Non è che c'è un altro. Non è un fosso. Sì, quelle immagini si vedono nell'inchiesta. Perché aveva partecipato... Queste sono le immagini, quelle che abbiamo visto prima, sono quelle davanti a Ramelli. Queste erano quelle di elaterazione. Questa roba è normale. Questo è il punto politico che abbiamo... E queste sono quelle di Ramelli. Però vedete la sproporzione a livello informativo di un bastone... Aspetta, uno alla volta. Aspetta, fai finire per l'Ufo, scusami. Peraltro, sulla vicenda di Morisi... Pensavo a essere finita. ...non c'è una dichiarazione mia sulla vicenda di Morisi. Sì, sì, ma infatti non stiamo parlando di Morisi. È vero che la vicenda di Morisi è arrivata pochi giorni prima del voto ed è vero che poi artigliando tutto ed è vero che quest'uomo è venuto fuori di tutto sulla sua vita privata. Perché atti delle inchieste arrivano alla stampa in quello come in altri casi, tanti altri casi, pronto a parlarne... Pronto a parlarne e pronto a discutere. Però il punto è lo sproposito, cioè l'enorme differenza che i media, la politica, ha dedicato per esempio a un caso come quello di Morisi che poi si è rilevato il nulla e ha queste immagini bizzarre che però non c'è un reato e invece c'è una persona come Lucano, amico del Partito Democratico... Ma anche quello è venuto fuori prima delle elezioni. Sì, è stato condannato a 13 anni perché truffava, rubava soldi, usando come scusa l'accoglienza degli immigrati e quindi lucrava sugli ultimi e abbiamo visto la stampa che ha preso le difese di Lucano, condannato a 13 anni, in primo grado per carità, quindi non è sentenza definitiva, diciamolo perché noi siamo diversi dagli altri, però condannato qui. Noi abbiamo avuto uno sputtanamento che è andato avanti per giorni sulle prime pagine di tutti i giornali, ma prendete, guardatevi, il giornale del Corriere della Sera, lo so che voi lo sapete, però ora prenderlo agli ascoltatori. La prima pagina del Corriere della Sera quando riporta la notizia di Morisi ha otto colonne, giusto si dice così? Ha otto colonne? Nove. Nove. Reminiscenze quando ero giornalista. Più di essi perché non replica poi devo fare le cambiose. La notizia è riportata oggi della potenziale archiviazione di Morisi un trafilettino così. Eh, quello è sbagliato. Pelufo, che poi chiudiamo? Io non mi tiro indietro su niente, vogliamo parlare di Lucano pronti. No, no, beh, non è la stessa. Anche perché quella è una sentenza in primo grado e la tesi difensiva richiama un fatto che hanno detto anche durante la fase del dibattimento che non ha preso un euro, Mimmo Lucano. Quindi questo sarà l'appello a smontare eventualmente o a confermare. Però quella è una sentenza in primo grado e quest'altro non è niente. Cioè, uno è l'archiviazione e questa qui è un'inchiesta che ha appena nato. Su Morisi, ripeto, se trovi una mia dichiarazione su Morisi, ne parliamo volentieri. A me quello che colpisce è che stasera, appena finito di intervenire Iezi, dal punto di vista politico non c'è alcuna presa di distanza rispetto a Bastoni, rispetto ai contenuti delle cose che ha detto. Questo è il punto politico. A lealtazione. C'è un'idea inadeguatezza della classe dirigente della Lega. Questo è il punto. Però io posso aggiungere solamente che la vicenda di Bastoni con lealtazione è vecchia. Non è di piazza pulita, c'era già. Però posso capire, perché è giusto a proposito di inadeguatezza della classe dirigente, posso capire su cosa, secondo Peluffo, su quali dichiarazioni di Bastoni io devo prendere le istanze? Perché lo prendo volentieri, però voglio capire quali, non quelle inventate, perché Bastoni non ha mai detto io sono fascista, ok? Devo prendere... Però ha sempre detto io non mi riconosco in queste categorie. No, ha sempre detto io non sono fascista, ma per me fascismo non è una... Quanto è che pensi di andare avanti così a pensare di piccolare? A me se uno mi dice fascista, io mi arrabbi, se io non mi dico fascista non si arrabbi. Quanto pensi di poter andare avanti a cercare di svicolare il rispetto? No, non sto svicolando, sto cercando... Sì, perché stai giocando sulle parole. Perché qui il fatto per te è molto preciso. La domanda precisa. La domanda precisa. La domanda precisa. La domanda precisa. Cosa ha letto Bastoni? Sì, no, ma la domanda... Su cosa devo prendere le distanze? Non fare la... Non svicolare, non fare la cagnata. Dall'ambiente, lui dice. Ma l'altazione è un movimento... Si ha messo una contiguità con questi movimenti. È un movimento a cui il comune ha dato anche dei locali, quindi di cosa stiamo parlando. E' un comune che strizzate le locali all'extrema destra. Questo è il punto politico. Voi volete chiudere... Cioè, stai dicendo che vuoi chiudere un'associazione? Dimmelo, dimmelo. Ti sto dicendo che tu continui a non smettere. Dimmelo, dimmelo. Perché c'è l'interesse a continuare. Non solo a strizzare l'occhiulino. Perché dall'elezione europea del 2014... Sì, ma a chi? A cosa? A chi? A chi? A l'altazione, l'abbiamo già detto, non è un problema. Le dichiarazioni di Bastoni, le dichiarazioni di Bastoni, le dichiarazioni di Bastoni da cui devo prendere le distanze, mi dici quali sono. Io prendo atto che non hai visto il servizio. No, no. Perché se no mi diresti quali sono le dichiarazioni di Bastoni da cui vuoi che io prendo le distanze. Lui parla dell'ambiente... Ma lì l'abbiamo già detto. Quando il prefetto dirà che quelle di attazione sono i legali, prenderemo le distanze. Cioè, prendiamo le distanze dai centri sociali. Prendiamo le distanze dai centri sociali che sono davvero illegali. Cioè, non prendo le distanze... Poi faremo una puntata sui centri sociali. Sciogliati gli ospiti che stanno aspettando di sembrare. Prendi le distanze da un condannato. Tu devi prendere... Questi non sono condannati. Va bene, dai. Tu, il tuo amico Lucano, è condannato. Va bene, ok. Sei riuscito per 20 minuti a non dire niente. Sei riuscito per 20 minuti a non dire niente. No, no, ma lui non prende le distanze. Lui non prende le distanze. Ma è bravo, dalla magistratura... Non ha preso le distanze da lealtazione. Questo è il punto. Ma gli sembra talmente chiaro. Questo è il punto. Vi terrei ancora un po', ma devo fare il cambio ospiti, perché adesso poi, Jacopo, parliamo della giunta di Milano, perché siamo verso... Sei concentrato sui messaggi che arrivano da casa. Va bene. No, stanno scrivendo... No, no, ma... Parliamo della giunta che sta per arrivare. Ringrazio Peluffo e Iezzi. Grazie a voi. State tranquilli adesso, che è finita la trasmissione. Cambio pubblicità, cambio argomento. A tra poco. Alla Mondo Flex, siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso, consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Montale, memoria, cellule aperte, analergico e traspirante, scontato dal 40 più il 20%. Problemi di sudorazione? Pascoli, in memory bridge, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40%. E se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, pirandello realizzato con miscele ricavate da estratti vegetali, scontato del 30%. E con il primo acquisto riceverete la carta oro, che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto, anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondoflex, perché Mondoflex fa la differenza. Vi aspetto! Da Motostar le novità Honda 2021 e le offerte sui modelli 2020. A te Simone! È l'indiscusso leader del commuting urbano, l'SH350, che cresce in cilindrata e prestazioni, ma non in emissioni e consumi. Potete acquistarlo alla Motostar con finanziamento fino a 48 mesi senza interessi al prezzo di 5.690 euro franco concessionario. Approfondite l'offerta al sito motostar.it. Kimoto, vendita e assistenza moto a Paderno Dugnano. Kimoto e concessionario ufficiale Aprilia, Moto Guzzi, Fantic Motor e Malaguti, eccellenze italiane per soddisfare la tua voglia di moto. E per la mobilità urbana da Kimoto trovi l'intera gamma scooter, Piaggio, Vespa, Niu, novità 100% elettrica. Promozioni, offerte per moto usato, finanziamenti personalizzati, officine e magazzino ricambi sono solo alcuni esempi dei servizi che trovi da Kimoto. Kimoto, da oltre 30 anni, è passione per le due ruote. Ti aspetto! Su Telenova, canale 14 del digitale terrestre, Tutti i giorni, il Rosario, in diretta dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, in Pompei, alle ore 7.20. E a seguire, la Messa Feriale, in diretta dal Duomo di Milano, alle ore 8.00. Verso la nuova giunta, ma scoppia il caso Maran. Vediamo di cosa si tratta, con Diana De Marchi, neo-eletta, anzi, neo-ri-eletta, giusto? si dice così, neo-ri-eletta in consiglio comunale per il PD. Un altro neo-ri-eletto. Un altro neo-ri-eletto che Alessandro De Chirico per Forza Italia. Come siete? Buonasera. Vedi Jacopo, l'aria è proprio rilassata, no? Direi. Ma se si va per pianto, smorta. Un altro, lui non ce la fa più. Ma io gli ho scritto il giorno del lunedì, martedì. Non mi ha mai risposto, ma giustamente, perché poi a un certo punto ho detto, mi sono alzato adesso. Ho dormito un giorno intero, ma perché ho avuto gli ultimi dieci giorni, un mal di schiena. Poi c'è il bambinetto. Poi c'è anche la gioia. Il bambino piccolo, devo recuperare, se no mia moglie... No, infatti stasera mi ha detto chiedo il permesso a mia moglie. È solo un'ora. Ringraziamo la moglie di Chirico che gli ha dato il permesso. Anche il marito della De Marche. E anche il marito della De Marche. Non capito. Non ci vediamo da un mese e mezzo. Allora, adesso però la vita cambia, non è tutta colpa sua. No, non cambia niente, la mia vita è sempre così. Beh, sotto elezioni eravate un pochino più incasinati. Ha anche bucato il motorino, lei venendo qua. No, dopo sono anche volata un'altra volta. Ho fatto dei numeri. Vediamo il servizio che ha preparato Michele Lanati che ci spiega gli ultimi gossip sulla Giunta e quali sono i nodi. Adesso sono affari suoi. Adesso sono belli affari, però sono suoi. Servizio. Ci siamo. La composizione della Giunta è indirittura d'arrivo. Ancora qualche dettaglio da limare e un attimo di attesa prima dell'annuncio, magari anche per permettere ad eventuali scontenti di smaltire la delusione e poi si potrà procedere. A rassicurare sull'ormai imminente annuncio delle persone cui affidare il governo della città è lo stesso sindaco Beppe Sala. Io sono molto tranquillo, credo che più o meno ce l'ho in testa. Se vuoi un punto, ci puoi fare qualche anticipazione? No, anticipazione, ci mancherebbe altro, però posso dire che la Giunta nella mia testa ce l'ho, adesso siamo le rifiniture, io ascolto tutti, ma poi i milanesi hanno sempre la garanzia di avere un sindaco che decide con la sua testa in maniera indipendente, quindi non vedo problemi, sinceramente. Ci saranno dei tecnici? Come sempre. La squadra sarà composta da 12 persone, la metà delle quali donne. Il nodo principale, quello relativo alla collocazione di Pierfrancesco Maran, dovrebbe essere risolto con la permanenza in giunta ma il cambio di deleghe, passando dall'urbanistica a casa e lavori pubblici. L'urbanistica dovrebbe andare quindi a Gabriele Rabaiotti, mentre il bilancio dovrebbe finire ad Emanuele Conte. Confermata come vice sindaco Anna Scavuzzo, che si dovrebbe occupare però non più di sicurezza ma di educazione. Martina Riva dovrebbe seguire lo sport, Gaia Romani politiche giovanili e Lamberto Bertolè il welfare. Elena Grandi dei Verdi potrebbe occuparsi di ambiente e il civico Tommaso Sacchi alla cultura, in carico che attualmente ricopre a Firenze. Probabile posto in giunta anche per Giulia Pastorella di Azione e Arianna Censi, mentre Marco Granelli dovrebbe ricoprire il ruolo di nuovo presidente del Consiglio Comunale. Allora, dopo parliamo anche dei problemi a casa di De Chirico, cioè non a casa, a casa c'erano con i di prima. La casa politica. La casa delle libertà, la casa politica. Non c'è più quella. Allora io vedevo Diana De Marchi mentre c'era al servizio che... No. Allora intanto cos'è sto caso Maran? Ma come cos'è sto caso Maran? E no, voglio saperlo da lei. Lui all'inizio nonostante abbia preso una valanga di voti perché è il tema quasi 10.000 sembrava che addirittura non entrasse in giunta quindi questo era stato l'inizio di questo appunto caso Maran poi si è risolto giustamente. È già risolto? Quindi possiamo dire che lui si è piegato al fatto che ce lo deve avere come dire vicino altri 5 anni intanto è bravissimo Maran ha preso tanti voti. Bisognerebbe raccontarlo lui perché era lui che non lo pare Sì, io avrei anche altro da raccontare ma come... Dai, racconta! Beh, insomma... Tu fai l'assessore? Non ho sentito il mio nome. No, beh, ma è il nostro collega alla Marchi che... Però sono ancora indiscrezioni De Marchi non è che sono quelle. No, io devo dire che allora io in un articolo subito il giorno dopo le le lezioni vedevo te tra i papabili. Beh, perché l'idea era iniziale poi giustamente il sindaco decide Certo, questo l'ha detto anche oggi Ci mancherebbe altro L'idea iniziale era che la rosa dei candidati assessori erano quelli prima arrivati quindi quelli con più voti Ma perché in realtà mi pare che anche lui avesse detto voglio in giunta solo quelli che si sono andati a prendere i voti quindi adesso poi gli chiedi i tecnici saranno? Eh sì, come sempre E in realtà l'abbiamo capita di verso l'altro ieri No, vabbè, però ci possono stare quelli che hanno preso tanti voti e anche qualche tecnico Io appunto insomma secondo me ci sono quelli che hanno preso tanti voti e che sono competenti perché è chiaro che non si può basare solo sui voti ci vogliono anche le competenze giustamente perché se no sarebbe matematica poi le scelte e poi le scelte sono sue quando le farà? aveva detto entro domani quindi è possibile ah, vedi io pensavo la prossima settimana invece secondo te forse si prende qualche giorno magari ho paura ho paura che forse qualche giorno se lo prenderà tu dirai? no, che seguo ma non è che gli parlo direttamente anche perché non è il momento parla per noi giustamente la nostra segretaria io sono del PD e parla la segretaria del PD e quindi è lei che tiene i rapporti ed è bravissima ma insomma è così lui c'è anche da dire che volendo la parità di genere no, sul numero di donne quello c'è certo ma c'è però non necessariamente scelte tra quelle che hanno preso più voti e hanno più competenze vedo un pochino di amarezza ma sì o mi sbaglio cosa dici Jacopo? mette tiene il punto ma ci sta cioè io ero partita con quella rosa di candidati non li sento ma non è ripeto non è una critica perché capisco che il sindaco debba decidere lui e a un certo punto quando decide scontenta qualcuno è ovvio per forza a me il nome che fa visto che parliamo tanto della rosa dei papabili assessori il nome finale che è Granelli presidente del Consiglio Comunale ma quello girava già da prima sì però francamente che non abbia smesso di girare non è che mi preoccupa però francamente io non lo vedo io lui proprio quel ruolo lì io non lo vedo e chi vedi lì? qualcuno che secondo me a parte il fatto del super party ma ci vuole un po' di come dire inquadrato inquadrato Bertone è uno molto inquadrato l'ha fatto bene sentiamo adecchirico non lo so sei sincero è meglio poi assessore perché dici cos'è che hai detto su Granelli presidente del Consiglio non ti piace o non ti piace l'idea di Maran assessore? io penso no ma innanzitutto il sindaco Sala sul finire della consigliatura aveva detto che chi aveva ricoperto l'incarico di assessore già nei due mandati precedenti non sarebbe stato riconfermato era l'idea del Maran punto numero uno ecco perché Maran e Granelli dovrebbero saltare ecco perché Maran e Granelli dovrebbero saltare ma detto ciò Maran ha preso 9 mila voti quasi dieci tanti voti e quindi sarebbe giusto siccome io credo nella meritocrazia credo nel valore delle preferenze penso che sia giusto però sono delle cose diverse da casa mi chiedono un altro Maran sarà il futuro candidato sindaco nel 2026 quindi e beh ragazzi beh vabbè assa di acqua ascoltate mi stanno chiedendo da casa me lo scrivo ok va bene ci sto chissà se tra 5 anni saremo ancora qua vabbè mi chiedono da casa di spiegare molto brevemente la differenza politicamente del ruolo della giunta e del consiglio perché non è che tutti sanno cosa sono chi glielo vuole spiegare la giunta sono un assessore è il governo è come se fosse il governo di Palazzo Cini è come se fosse il potere esecutivo del comune gli assessori sono come se fossero i ministri il nostro è un potere legislativo invece il consiglio è il Parlamento un po' da passacarte perché poi beh beh Alex se volete guarda un esempio proprio no ma per spiegare chi ci guarda il consiglio è il Parlamento di Milano possiamo dire così l'ultimo esempio che posso fare riguarda proprio un tema di oggi Eurovision è stato assegnato alla città di Torino noi come consiglio comunale avevamo Milano era stata proposta un ordine del giorno votato quasi all'unanimità da tutto il consiglio comunale il sindaco non ha mosso un dito per portare avanti la nostra richiesta tu dici che si è disinteressato e quindi questo totalmente disinteressato ma magari è stato un modo anche per dare qualcosa anche a Torino ma sì questo c'ha l'Olimpiade è tutto non glielo avrebbero dato adesso non voglio sminuire cioè come Draghi che diceva voglio l'Expo a Roma che ha fatto Milano adesso posso fare una pubblicità a concorrere per l'Eurovision ha partecipato anche Palazzolo a Creide che è il paese in provincia di Siracusa e pensa che ha perso ci hanno provato un po' tutti saluto i palazzolesi però noi noi veniamo da un anno e mezzo di pandemia pure loro pure Torino tutti quanti sì però Milano è un'altra cosa vabbè comunque Milano lo faranno Torino no però io non sono d'accordo è vero che è il Parlamento e quindi poi decidono i ministri assessori ah scusami no scusami dimmelo visto che lui ha detto siamo dei passacarte ci scrivono cos'è? abbiamo dato quindi abbiamo dato preferenze a chi poi non contani no vanno in ragione niente dicono cos'è è Roberto si chiama non il telespettatore Roberto dice una cosa sana allora noi portiamo avanti guarda posso dice una cosa sana cioè che non contate niente no che non è vero che dai le preferenze perché la gente lavora al contrario quello sicuramente no perché tu hai detto passacarte sembrava non contiamo nulla arrivano arrivano i documenti già preconfezionati con gli emendamenti scritti dai tecnici alla maggioranza che vengono lottati lui parla d'opposizione perché chiaramente c'è anche una differenza tra la maggioranza e l'opposizione però nella democrazia anche l'opposizione no no allora discute lui è finissimo ha fatto tantissime proposte nella scorsa consigliatura alcune condizioni anche con Diana però sono rimaste lettera morte e beh certo poi dipende anche se quanti voti prendono magari ci arriva anche qualcuno della maggioranza che le avalla i voti aumentano diciamo che questo è stato però un periodo particolare perché io devo dire che in effetti gli ordini del giorno degli ultimi due anni e ne abbiamo tantissimi giacciono ma è bene perché c'è il covid va bene e siamo stati tutti poi travolti dalle richieste passiamo invece alla giunta perché c'è una persona che ha fatto una proposta di istituire così magari ci sono assessori in più di istituire due nuovi assessorati giusto? sì l'assessorato alla salute e l'assessorato alle acque le acque e manca il sindaco della notte ah poi c'è anche il sindaco della notte però adesso ci colleghiamo con l'autore di questa proposta cioè assessorato alle acque assessorato alla salute dopo la pubblicità scopriremo chi ha fatto la proposta a tra poco benvenuti da Messa da sempre riferimento del marchio Renault e Dacia per Monza e Brianza da noi troverai auto nuove usate aziendali e chilometro zero inoltre offriamo assistenza e magazzino ricambi ti aspettiamo anche per un test drive in massima sicurezza le nostre concessionarie sono sempre aperte Ducati Milano gli specialisti delle due ruote da oltre 20 anni siamo concessionari esclusivi per la città di Milano e provincia da noi troverai un salone di moto nuove con tutta la gamma in esposizione un vasto salone di moto usate un reparto abbigliamento e di accessori ed un'officina tecnica specializzata e poi tanta tanta passione ti aspettiamo per esservi più vicini vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento grazie al nostro virtual tour visitando il nostro sito e i social dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura non dovrai più aspettare 10 anni i nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze scegli Dimensione Bagno sulla statale Agrate Melzo e sul web dimensionebagno.it Ciao a tutti Roberto Godieri vi presento la mia azienda ID Group e i miei brand Electro Discount tutto il mondo dell'illuminazione e conversione con le nuove tecnologie per la vostra auto e la vostra moto ma anche i camion Officina 5x3 tutto il mondo della manutenzione meccanica auto-moto Cubicatura Milano Water Trussel Printing Discount gomma tutto il settore delle gomme e l'ultimo di Pior Carlodi il plastic vernice rimovibile vi aspetto sempre sui miei canali Roberto Godieri Cian YouTube Instagram Facebook e TikTok Ciao Kimoto vendita e assistenza moto a Paderno Duniano Kimoto e concessionaria ufficiale Aprilia Moto Guzzi Fantic Motor e Malaguti eccellenze italiane per soddisfare la tua voglia di moto e per la mobilità urbana da Kimoto trovi l'intera gamma scooter Piaggio Vespa Niu novità 100% elettrica promozioni offerte per moto usato finanziamenti personalizzati officina e magazzino ricambi sono solo alcuni esempi dei servizi che trovi da Kimoto Kimoto da oltre 30 anni è passione per le due ruote ti aspetto Le notizie da Milano e dalla Lombardia con la voce delle istituzioni della diocesi degli esperti e della gente il sociale il lavoro e la cultura sempre in prima linea nei palazzi e sulle strade il TGN le notizie a modo nostro le notizie come piacciono a te Allora eccola qua la proposta un assessorato alla salute e uno alle acque la proposta arriva dal professor Giorgio Goggi già assessore al trasporti nonché del comune di Milano nonché candidato sindaco in questa ultima tornata buonasera Goggi buonasera a tutti allora che ci azzeccano queste due proposte ci spieghi un po' sono due proposte che noi abbiamo fatto nella campagna elettorale e sono due proposte importanti beh la sanità per prima cosa naturalmente perché abbiamo visto durante la pandemia che ci sono stati dei problemi molti problemi e perché la legge regionale già da tempo prevedeva che fosse realizzata la sanità territoriale e invece non è mai stata realizzata sanità territoriale che voleva dire avere in tutti i quartieri un presidio sanitario con più medici di base con alcuni specialisti con tutto quello che serve per la sanità dei cittadini e anche la possibilità di fare i più semplici esami ebbene è ora che questa sia realizzata e quindi ci vuole un assessore della sanità anche perché non lo proponiamo in realtà spieghiamo una cosa perché la salute è competenza regionale la salute c'è la regione però è il sindaco il responsabile della salute dei suoi cittadini come fai a distribuire i poteri a una terza persona anche perché poi c'è anche ATS che si occupa o ASST che si occupa della sanità territoriale magari male però in teoria c'è già qualcuno che se ne deve occupare essendoci già il sindaco quello è un ufficiale sanitario del comune di Milano quindi in tutti i comuni il sindaco dopo la riforma sanitaria è il responsabile della sanità quindi può ordinare che le cose si facciano o comunque può curare che queste cose si facciano quindi oltre alla sanità territoriale c'è un problema e cioè la possibilità di reintrodurre il medico scolastico una volta c'era è stato eliminato oggi sarebbe ancora più importante sia per la pandemia sia per la quantità di immigrati che abbiamo nelle nostre scuole la cui salute va curata Aspetti prof le faccio rispondere da Diana De Marchi che oltretutto è anche un insegnante allora questa cosa dell'assessorato alla salute e questa cosa del medico a scuola che non c'è più Sì allora dell'assessorato alla salute non avendo noi la competenza certo che la sanità territoriale e quindi la medicina di prossimità è mancata e che dobbiamo collaborare con regione per avere quello che ha detto Sala casa e salute dobbiamo lavorare insieme è evidente però arrivare a un assessorato non so se è necessario penso che sia forse una delega sulla salute si potrebbe dare ma non un assessorato perché non è una competenza del comune primo secondo noi siamo è il benessere che è delle cittadine responsabilità del sindaco noi siamo lo dico sempre perché non lo sa nessuno e bisogna valorizzare questa cosa come Milano vicepresidente della rete città sane che è una rete collegata all'organizzazione mondiale della sanità peraltro io la delega e da poco ed obiettivamente quella dà delle indicazioni che seguono esattamente questa linea cioè sul benessere e quindi l'attività fisica le condizioni della città adesso a 15 minuti come devono essere proprio perché ci sia una mobilità sostenibile eccetera queste cose le fa il comune di Milano e le segue e le può quindi anche avere come delega e come competenza perché sono proprie dell'amministrazione la salute deve essere un raccordo mentre sono d'accordo sul fatto che a scuola serva un'organizzazione diversa da quella che c'è l'avevamo fatta questa polemica perché chiedevamo tutti il medico scolastico lo volevate tutti lo volevo tutti poi però abbiamo ragionato anche in una commissione molto approfondita e abbiamo capito che il medico scolastico è difficile da riavere così come era nel passato perché sono cambiate le modalità eccetera ma andrebbe un medico di riferimento per ogni scuola che sia veramente dedicato e quindi che abbia una serie di scuole quindi non per ogni scuola ma per un pollo di scuole che si muove nelle scuole quello deve poter funzionare deve essere anche un raccordo più veloce io penserei di far più che alla campagna elettorale che ormai è finita ma questo è un consiglio non è una campagna elettorale è un parere suo se posso dare io un consiglio al sindaco Sala direi di fare un assessorato alle olimpiadi perché siamo già in ritardo l'assessorato alle olimpiadi la scadenza del 2026 è sempre più veloce sempre più imminente quindi io credo che sia importante poi vogliamo definire olimpiadi sport magari c'è lo stadio anche stadio appalti visto che è un tema è un tema un grande evento che c'è stato a Milano era il 2015 è stato Expo e l'ha gestito quello che adesso fa il sindaco io mi augurerei che si tenga lui con le deleghe all'olimpiade francamente perché quella volta lì è andata torniamo da Gogi scusate torniamo da Gogi visto che è collegato torniamo da Gogi allora quindi il medico più o meno mentre assessorato alla salute non li convince e quello le acque invece? cos'è? quello le acque? ti importa la funzione della sanità scolastica allora l'assessorato alle acque è importante intanto bisogna ricordare che Milano ha un'enorme quantità di acque sfruttabili nella sua falda la profondità della falda è notevole e i primi 30 metri di falda non sono potabili ma sono utilizzabili per vari fini per esempio per alimentare le pompe di calore ed avere riscaldamenti non inquinanti che è una cosa piuttosto importante poi abbiamo un altro problema c'è il problema della riapertura dei navigli ora non so se vi ricordate c'è stato un referendum sulla riapertura dei navigli e questo referendum ha visto il 94% dei cittadini che hanno votato a favore della riapertura però non se ne è fatto niente allora pensate al referendum sul divorzio se qualcuno avesse detto si ha vinto il divorzio però chi se ne frega vedremo oppure altri referendum e dato che i cittadini vanno lei si ricorda il referendum con cui era stato abolito il ministero dell'agricoltura poi è stato ripristinato come ministero delle politiche agricole quindi l'Italia queste robe qua non sarebbe la prima volta ripristiniamo l'assessorato le acque e così stiamo ripristinando queste funzioni perché la riapertura dei navigli sarebbe molto importante per Milano sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista paesaggistico darebbe un'altra immagine del centro storico e soprattutto renderebbe Milano uno dei più importanti poli turistici del mondo molto più di quanto non sia adesso beh in effetti con i fondi del PNNR e De Chirico qualche soldo per riaprire i navigli qualche soldo in più magari arriva tu non saresti d'accordo alla riapertura dei navigli no assolutamente non vivo di romanticismo io sono uno concreto già hai paura che ti impedisca di andare in macchina al naviglio io non sono uno che guarda sono venuto a piedi qua questa sera voi che volete solo le macchine voi di Forza Italia assolutamente io sono sempre stato contro il partito di Forza Italia a favore delle automobili Diana lo sa perfettamente perché ho preso le distanze dal mio ex capogruppo De Pasquale De Pasquale che in più di un'occasione ha sempre riveso le automobili io sono per esempio il promotore della realizzazione della preferenziale sul ponte della Ghisolfa tanto per dirmi ma i Navigli no i Navigli mi sembra un'idea romantica di una città che non c'è più noi dobbiamo andare cioè tu non spenderesti un euro del PNNR per riaprire i Navigli io preferirei spendere gli euro del PNRR per l'edilizia scolastica ma non per i Navigli Diana De Marche arrivano dei fondi dedicati all'edilizia scolastica comunque no io capisco cosa vuol dire a me invece piace a parte che c'è stato un referendum quello che oggi ha ragione il referendum c'è stato non è che possiamo fare il referendum e poi fregarcene quello c'ha ragione quindi nella precedente campagna insieme all'ossessione delle periferie ci aveva l'ossessione dei Navigli ma anche per valorizzare le parti per esempio la Martesana è una delle parti che trarrebbe grande vantaggio da una riapertura proprio anche come riqualificazione ma non solo diciamo che adesso io quindi sono più che favorevole quello che è successo nel frattempo però è stato che abbiamo avuto tutti i cantieri della metropolitana che hanno bloccato lo dico da come si dice non so mai sono suocera non so del marito di mia figlia sì non so mai in italiano come si dicono è brutto che ha appunto un locale commerciale quindi ha patito molto nella zona dove dovrebbero passare anche la riapertura dove dovrebbe passare la riapertura dei Navigli è stata molto più lunga del previsto tutta la vicenda della metropolitana poi c'è stato il covid cioè non vorrei che in questo momento non lo so bisogna ragionare bene e programmarlo in modo che non danneggi ulteriormente chi ha patito ecco cioè tu dici che non ci siano nuovi cantieri che fanno non servono Gogi dice no ma sogniamo un po' no sognare a me piace mi piace la città col Naviglio aperto assolutamente e soprattutto c'è l'idea di rendere Milano con i canali navigabili cioè bellissima poi non so quanto possa essere realizzato ma Gogi sogniamo per un attimo secondo lei si potrebbe fare quanto ci vorrebbe ma si può fare anche perché il cantiere della riapertura dei Navigli è molto più semplice di quello della metropolitana a parte che la metropolitana ha già previsto l'apertura dei Navigli ma poi i Navigli ci sono ancora semplicemente sono stati riempiti di ghiaia quindi basta aprire togliere la ghiaia e riorganizzare il tutto quindi è un cantiere molto ma molto più semplice di quello della metropolitana naturalmente va fatto per parti in modo che non si blocchi tutta la città va fatto gradualmente però si può fare senza tanti problemi e come dicevo prima non è che quando si è fatto il referendum di divorzio si possa dire vabbè ma chi se ne frega lasciamo perdere no è il referendum è un referendum ma soprattutto dovete pensare che il Naviglio riaperto Milano riaprirebbe tutta la rete dei Navigli che è un monumento storico perché è stato costruito dai Lombardi in secoli di storia con cui hanno irrigato tutta la parte della Lombardia di sotto della linea delle Risorgive e creato i canali facendo diventare Milano una città che poteva commerciale con tutto il mondo cosa che prima non esisteva ma se i Navigli di Milano fossero riaperti si potrebbe ripartire partire da Colico oppure dalla Svizzera nel Lago Maggiore arrivare a Milano andare sul Po passare per Mantua e andare a Venezia sarebbe la crociera più bella del mondo perché nessun posto del mondo ha una bellezza di arte e di paesaggio così varia e così interessante quindi oltre che l'idea è fantastica è chiaro che poi la realizzazione fa pugni a volte con la compretezza ma anche solo quel pezzetto che si può navigare adesso e che si fa un po' per i turisti a Milano sul Naviglio ma è bellissimo cioè io supporto le persone che vengono restano colpite sembra davvero prof lei adesso continuerà a fare politica cosa fa? vedrò non so certo noi andremo avanti penso che non mi candiderò ad altre cose vista l'età però per quanto riguarda la politica siamo riusciti a rimettere in piedi un partito socialista unitario non si vede perché abbandonare bravo va bene grazie prof poi ci sentiamo prossimamente ok? buonasera a presto a presto grazie per i suoi suggerimenti ci sono? ci sono milanesi che dicono l'Ibea dei Navigli rimettiamola in pista ma poi chi paga la manutenzione no no però in realtà ha votato ha votato per referendum non ha votato fammi mandare la pubblicità che è tardi ma non ha votato il 5% quel referendum sono andati a votare il 48% quasi quasi più di quanto sono andati a votare questa volta per il sindaco quindi poi bisognerà ascoltarli pure qualcuno però dice poi in ufficio vado in canoa sul navio l'acqua scuta l'acqua scuta oppure si viene una delle tante biciclette che buttano nel navio se a Granelli non fa più l'assessore ai trasporti pubblicità lo vediamo in gondoletta le canoie di Granelli no è poco realizzabile però è bellissimo diciamo il canoa sharing il canoa sharing no è bellissimo è bellissimo il canoa sharing allora adesso mettiamo il titolo della crisi del centrodestra va secondo me a prima vissi sono soldi buttati eh ma quello sai in una fase così difficile economicamente no perché lui dice è facile fare il cantiero ho capito ho capito devi bucare nel Chiorre Gioia è facile fino a un certo punto è vero che la metropolitana l'ha già previsto quella nuova cioè è già pensata perché non ci sia un problema no 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 il problema è che tu devi riaprire il Chiorre Gioia è un'arteria il problema esisterebbe il mio genero ha il bar lì sul molino delle armi e dice io mi suicido se mi apro anche per i navigli ma non è lui solo oppure prende una ciazzatera tipo quella dei navigli la butta sopra e dice basta cazzo adesso sto qui non mi muovo più senti Diana com'è la gaia romani simpatica bene direi che l'abbiamo già smontata scherzo no no è brava ma è simpatica ho fatto anche un'intervista no sto cercando giovani del PD da far venire in tv qualche volta chiamala perché andrà in giunta andrà in giunta la romana così se lo avevo seduto è un altro è un maschio l'abbiamo detto anche noi però non credevo che fosse è un maschio è appunto però i voti ci sono secondo me le politiche giovanili ci mancano un maschio dimmi un maschio bravo del PD è un maschio giovane Bottelli Bottelli chi? Bottelli ex consigliere del municipio municipio ah qua era la copiata dei giovani democratici i loro due infatti più o meno vogliono gli stessi voti ce l'hai il numero di lui? certo me lo mandi dopo? la gaia romani me l'ha data venire sia un uomo sia una donna c'è anche la gaia voglio dei giovani nuovi da far venire qui ogni tanto perché De Chirico sta invecchiando quindi bisogna trovare i vostri a parte c'è di giovane beh insomma c'è una bella tornata di giovani la giovanati e uno in gara mi giri il numero? della lega non ce l'ho no della lega c'è già Verdi che bravo ho capito ma se ce n'è un altro dammene anche un altro Samuele c'è un altro Rocca Truppo Rocca lascerei perdere vabbè tranquilli no Rocca e Valcepina se ne stanno a casa loro per un po' mamma mia ma dovrebbe proprio stare a casa davvero però vabbè adesso aspettiamo un attimo ma sai che Rocca non mi sembrava neanche così tanto io Rocca non lo so ma lei l'ho vista e Truppo com'è? ma Truppo sto tranquillo mi giri Truppo? ma me lo faccio girare no da fidanza Truppo cos'è? la fezza la fezza se lo giro occhio no volevo svecchiare un po' due anche perché del Pasquale non c'è più allora no perché noi stiamo ragionando sul cambiamento che c'è stato nel centrodestra caro De Chirico allora la resa dei conti dei conti nel centrodestra io ho letto delle interviste ad esempio di Giulio Gallera che ho sentito oggi che insomma che riconosce che ci sono stati degli errori grossi nella scelta di Bernardo nella e nella gestione di questa campagna elettorale forse bisognava scegliere un candidato che non era civico ma un politico che conosceva la città e conosceva le problematiche della città Bernardo un bravissimo pediatra ma è arrivato tardi e quindi non ha saputo intercettare le esigenze politiche reali di questa città è quello l'errore principale innanzitutto permettimi di ringraziare il professor Bernardo perché l'ho sentito oggi e ha detto che lui scusami fammi dire questa cosa perché è interessante ci siamo sentiti oggi per telefono e mi ha detto che lui entrerà in consiglio comunale quindi quelli che dicevano poi tanto starò in consiglio comunale lavorerò per la città il mio impegno non cambierà e verrò presto a trovarti in trasmissione quindi questo secondo me se poi lo fa è una cosa positiva non è che si volta le spalle e dice arrivederci e grazie indubbiamente adesso non voglio parlare degli assenti dei candidati sindaco del passato che una volta non eletti hanno detto la stessa cosa e poi insomma sono stati poco presenti al di là di questo onore delle armi al professor Bernardo che ha fatto una campagna senza risparmiarsi si è parlato molto poco di contenuti perché ovviamente il sindaco uscente poi riconfermato aveva tutto l'interesse di non parlare del progetto dell'idea di città quindi è stata una campagna molto sotto tono si è pensato più a guardare il nome se c'era nei logo dei partiti di centro non ce l'avevate forse Italia ce l'aveva e io penso che sia stato anche un valore aggiunto per noi perché ci abbiamo messo la faccia io ho fatto la campagna elettorale a stretto contatto con il candidato Luca Bernardo abbiamo fatto tante cose insieme luglio agosto e anche adesso a settembre insomma quindi lo voglio ringraziare perché metterci la faccia sapendo di essere in difficoltà perché tutti i sondaggi davano in vantaggio hanno sempre dato in vantaggio il sindaco Sala insomma ci vuole un bel coraggio detto ciò forse non aveva nulla da perdere sicuramente l'ha fatto si è impegnato e tanto di cappello però degli errori sono stati fatti oppure no? sono stati fatti gli errori già nell'anno precedente perché se tu pensi già da luglio 2020 il signor Matteo Salvini ha iniziato a dire entro settembre 2020 ci sarà il nome del candidato sindaco poi entro dicembre poi prima di Natale a Sant'Ambrogio hanno messo hanno buttato sui giornali dieci nomi a razia dal polo dopo dopo che lui è uscito dicendo che era candidato ho fatto il Sant'Ambrogio il giorno dopo dieci nomi dieci bruciati in un colpo solo e poi a Pasqua poi a Riviera insomma sotto le feste si dava fuoco a un uomo ma la colpa è del signor Matteo Salvini la colpa è del signor Matteo Salvini vabbè se l'è presa anche lui in realtà io l'ho detto ma io l'ho detto io però voglio camminare l'ho detto per un anno e adesso non dobbiamo commettere l'errore perché noi lo dico adesso che stiamo iniziando una nuova consigliatura in passato come centrodestra noi ci siamo trovati solo nel luglio 2016 tutti i partiti riuniti se no mai più tutti gli eletti mai più poi è chiaro la Palazzo Marino sì ci siamo confrontati noi consiglieri ma è importante se vuoi costruire un progetto di città se vuoi avere una credibilità e arrivare davanti agli elettori e chiedere il voto devi partire molto prima ok quindi l'errore è Salvini e l'errore non avessero partiti prima ma volevo chiedere ma quindi se decide tutto Salvini voi non avevate margine no non è che se decide tutto Salvini e beh perché nel centrodestra c'è una regolare era il candidato di Salvini è una regolare quello che prende più voti decide è stato così quando Forza Italia era il primo partito di coalizione però a differenza di altri Silvio Berlusconi il cavaliere Berlusconi ha sempre dato grandissima visibilità agli altri partiti grande rispetto agli alleati pur avendo magari percentuali molto inferiori rispetto e invece la stessa cosa non ha fatto la Lega non l'ha fatta la Lega mi pare che mi pare che c'è una zanzara scusate c'è una zanzara mi pare che tra Salvini e la Meloni si sia installato questa questa gara e questa gara per la leadership e per la per chi prende più voti però però poi i risultati dicono che hanno perso tutte e due certo rispetto a cinque anni fa quelli che hanno perso mi sembrate voi forza Italia in cinque anni su Milano avete perso 70 mila voti 70 mila mentre fratelli d'Italia è cresciuto da 12 a 44 quanto fa 36 da 2,4 da 2,4 fratelli d'Italia nel 2016 era appena nata fratelli d'Italia nel 2016 aveva 12 mila voti adesso ne ha 44 mila ah sì mentre invece la Lega ha perso 11 mila voti ne ha persi anche la Lega però quelli che ha persi di più siete voi noi forza Italia paghiamo il fatto che e questa è una critica che io ho fatto nel mio partito nelle sedi opportune purtroppo siccome io sono uno che dice le cose in maniera chiara perché non mi piace dire le cose dirle e non dirle no bisogna dirle e cos'è che hai detto? hai detto che forse bisognava un attimo rivedere anche i meccanismi interni alla dirigenza voglio dire l'onorevole Rossello che è commissario del mio partito ha fatto un grandissimo lavoro ma non è una politica allora quindi ci voleva ci voleva ci volevano delle figure politiche ci volevano delle figure che la fiancassero invece non solo durante la campagna elettorale perché se in due anni dalle europee abbiamo perso 12-14 consiglieri di municipio due consiglieri comunali che sono andati in altri partiti ci deve essere un campanello c'è stato il fuggifuggi dal vostro partito c'è stato il fuggifuggi io ogni volta che infatti a tutti quelli che siete rimasti a tutti ho detto grande stima perché rimani grande stima perché fammi sentire anche la Diana ci sono anche persone che non si sono candidate che in passato avevano un grande consenso quelle persone se non avevano più voglia di candidarsi dovevano essere coinvolte in un altro modo certo non lasciate quindi è stata un po' lasciata andare forse Italia quello sì quello sì Diana cosa volevi dire che prima volevi intervenire no beh intanto chiedere del candidato ma io penso che sicuramente c'è stata una perdita di voti vostri per le cose che dice però quello che ho visto io crescendo proprio nella campagna è stata che invece i milanesi hanno apprezzato la visione di città del sindaco cioè mi dispiace che De Chirico dica non si è apprezzato Sala ha preso 50 mila voti in più appunto quindi è vero che sono anche andati meno a votare su un milione e 29 mila votanti sono andati a votare hanno votato Sala però scusami ho capito però 50 mila e più li ha presi però li ha presi il 26% però mi paziente ho capito 50 mila persone in più hanno votato poi colpa nostra che non abbiamo avuto non abbiamo creato una prospettiva è un'alternativa siccome tu hai detto non si è parlato di visione della città non è che non si è parlato si è tenuta quella visione di città che si è costruita durante il post covid e si è portata avanti e quella visione di città e il modo in cui si è anche governato in quel periodo difficilissimo secondo me è stato apprezzato non governato ed è stato riconosciuto no è stato governato non governato perché il sindaco non ha fatto nulla ma ormai la campagna elettorale è finita adesso non sei in campagna elettorale la gente ha votato lasciami dire che secondo me è votato per questo tu avrai un'altra visione io ritenco che il vostro guardate guardate chi poi dei vostri lettori hanno votato Sala bisogna anche rendersi conto però di quello che succede l'hanno votato non hanno votato hanno votato il 47% dei milanesi ha votato è successo in tanti comuni che il sindaco del covid abbia poi comunque evito anche perché oggettivamente c'è stata anche una cosa dei marchi mi permetto di dire no sono d'accordo di vicinanza e di necessità è stato totalmente monoesposto il sindaco durante il covid il sindaco non è mai uscito dal palazzo marino durante la pandemia ragazzi ma allora voi dovevate tirar fuori una figura allora e metterlo subito come antagonista non l'avete fatto forse guardate colpa nostra forse ti dico una cosa senza uscire allora la politica non si può fare col se col ma ma ti dico che se se gallera prima che venisse fuori il casino no 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 fammi dire questo quando inizialmente era ben esposto ed era notissimo si fosse se ne fosse andato subito e si fosse congelato come possibile antagonista di sala forse lui sarebbe stato credibile poi c'è stato il disastro ma chi è che l'ha chi è che l'ha pugnalato poi alle spalle ma soprattutto chi è che se ne va mentre sei così come dire l'uomo del momento te ne vai ma quando mai cioè non c'è nessuno no lo so però a posteriore l'unico che aveva che aveva notorietà in quel momento parlavamo di covid durante il covid era lui era lui il 4 di gennaio del 2021 quando i medici erano in ferie dopo un anno di pandemia dove dormivano in corsia non sono partite le vaccinazioni i medici partivano il 7 gennaio e non il 4 hanno iniziato a fare il tiro a piccione con Giulio dai è la Lega è sempre la Lega e beh penso che il mio titolo della resa dei conti era fin troppo morbido Jacopo mi piace la sua sincerità però non è la resa dei conti cos'è? la faida allora visto che parliamo di resa dei conti di faida per chiudere in bellezza adesso mandiamo la fascia e poi vi facciamo sentire che cosa? vedere e sentire un personaggio non diciamo chi è un personaggio che non è di Milano che ha contestato Bernardo ah e l'ha contestato in maniera molto colorita giusto? se non dobbiamo dire chi è dico solo che l'ha contestato e non lo vedono a casa e si è quello là è quello là ma voi non vedete chi è se vi ricordate una sigletta durante la pandemia dopo la pubblicità vediamo il video di questa persona che con Milano non c'ha zecca niente ma che è andato ha dato le mazzate a Bernardo a tra poco e perché? non c'ha zecca mazzate e perché? ma non lo so no l'ha preso per il conto Alex veramente ho molta stima di te per la tua sincerità poi c'è andato il povero testo e Bernardo non riusciva con Salvini ma non è deciso di andare quindi tu dici che Giulio è stato fatto fuori del fuoco amico? vabbè ragazzi però però ha fatto qualche minchiatina la fata qualche minchiatina la fata ha fatto qualche minchiatina io gli voglio anche bene ma qualche minchiatina ma quando è andato a correre ma non puoi dirmi che sia cioè sono lei ah quando è andato a correre io ti dico solo che lei aveva lanciato l'hashtag sì cioè? gallera sindaco gallera sindaco lei era convinta no? e io le dicevo ma all'inizio era bravo Adriana manca tanto e poi le dicevo stiamo calmi perché io qualcosa non mi torna queste cose qua alla fine loro le pallinavano ma loro era il loro lavoro ma tu Salvini non puoi prestare il fianco sai che secondo me Caparini era geloso in regione ma la colpa era di Caparini vedi che io l'avevo capito quando sono arrivate le forniture la colpa era di Caparini che non faceva non sai il gossip perché c'è su Caparini in regione sì Caparini solo che Giulio è un signore no ma una roba Giulio è un signore è arrivata lei è la prima cosa che ho detto no non posso dirtelo io è come no via Lombardia così no Lombardia se c'è un esponente tra poco un esponente nota della Lega cambierà partito ho capito allora perdonami tu pensa Caparini io lo chiamo coglione perché se capisci che Aria non funziona è inutile che ti attacca ti testi Aria e così poi muori lui non attacca mai non dice mai perché la Lega non la vogliono scusami no ma c'è lui non io poi Giulio lo conosco da prima di te scurami no nel senso che io Giulio nel 99 nel 99 io ho 50 anni sto scherzando però nel 99 lui è bambino lui si era candidato alle europee mi doveva sposare Giulio europee ha fatto la campagna e è andato di mezza sì e noi l'avevamo fatta però mio marito voleva Salvini perché lo conosceva io volevo Giulio e alla fine mi ha detto prendiamo un funzionario ah così lo abbiamo scegliato sì lo abbiamo scegliato invece la mia una delle mie migliori amiche proprio che si è sposata dire 100 in seconda perché se invece tu mi dici che devo fare la campagna a te a questo siamo fottuti noi siamo amiche e suo marito è amico di Dalfonso ah sì però le ho fatto tutte io le pratiche aveva anche un problema e chi ha sposato allora l'ho sposato io ti ho chiamato per me ah che brava eh si può forse ho sbagliato con di Dalfonso eh ci ho fatto bene io ho un'amica che si vuole fare un'unione civile con la sua fidanzata posso chiedere un'amica di uno di voi che lo fa io volentieri sì sì allora stavamo dicendo che vogliamo vedere questo personaggio non milanese che non so perché oggi non sapeva cosa fare ma oggi ha fatto una disamina del voto lui di tutto ha detto e se l'è presa anche con il povero Bernardo vediamolo beh povero insomma adesso quando l'ho visto la prima volta io non ci credevo sarà un'ottima persona per l'amor di Dio un grande rispetto ma visto così al primo colpo non ci credevo che potesse essere quello il candidato per una città come Milano e che devo dire mi pareva una via di mezzo fra un Umarrell e un Martinit come vi devo dire credo che Sala sia nato con la camicia obiettivamente cioè se uno avesse chiesto a Sala che candidato vuoi come avversario Sala avrebbe detto Bernardo senza il San davanti Bernardo questo lo ha scelto Salvini cioè è vero giuro che no ma la De Marchi diceva ma è vero è Crozza sembra Crozza però allora è uscito questo filmato c'è la risposta di De Bernardo che ha detto De Luca chi? quello che salta le code? ma sì ora mi sovviene quella macchietta che Crozza ha reso un po' noto con le sue imitazioni questa spirisosaggine su Marelle Martinit francamente non la condivido De Luca faccia meno show e porti rispetto per chi riesce a dare sempre e comunque un grande contributo alla società mi stupisce che un uomo delle istituzioni della Repubblica scada così tanto sono onorato dell'accostamento a Marelle Martinit forse il governatore Campano parla senza conoscere il senso delle parole si sforza con l'ironia ma questa è un'arte che dovrebbe almeno imparare almeno da pulcinella queste le parole chi ha scritto questo? Bernardo beh la ultima battuta su pulcinella ci sta si si De Chirico si condivido quello Bernardo o condividi De Luca? no no condivido la risposta di Bernardo va bene l'ironia però ognuno dovrebbe guardare in casa propria io penso che insomma De Luca si deve preoccupare più di della campagna di Napoli dei problemi della sua regione anziché vabbè ho capito ci può stare ma lui in realtà non se l'è presa con Bernardo se l'è presa con Salvini la chiosa era per Salvini quindi alla fine è come se Bernardo fosse stato uno strumento inutile nelle mani di Salvini va bene allora giunta quando arriva? domani domani a me avevano detto domani però può darsi che ci sia ancora qualche ripensa voi vi riorganizzate chi fa il capogruppo vostro? noi discuteremo abbiamo una riunione settimana prossima ne parleremo guarda cosa dicono De Luca ha detto quelli che tutti pensano non hanno il coraggio di dirlo ma sì dai che il candidato fosse adesso non per la persona in sé che fosse un po' dei bole ma che non fosse beh ma io non credo che sia da l'identa l'errore di fondo è quello di dover scegliere a tutti i costi il civico il civico eh vedi quello è sbagliato a parte che Salvini credo che non abbia mai avvalato il giorno di vita mamma mia questi alleati io ogni giorno li vedo bene però quale politico del centrodestra milanese avrebbe detto e poi dobbiamo chiudere vado io contro questo qui Lupi c'era un cagnettino oltre a quello che è stato nominato prima da Adriana c'era anche Maurizio Lupi che secondo me è stato uno dei più da conoscente dalla marca dei più critici cittadina con un profilo molto alto un ex ministro un ex assessore probabilmente avrebbe fatto meglio dobbiamo fermarci eh però però è andata così al balottaggio chi può dirlo chi può dirlo non lo sapremo mai no venerdì prossimo ricomincio nei quartieri dovevamo andare in onda al servizio ci siamo dimenticati fa niente fa niente comunque venerdì prossimo da che municipio cominciamo? eh a saperlo sono in trattativa adesso li governiamo tutti esatto 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 quindi adesso se non mi date retta poi me la prendo con tutti voi va bene sì sì grazie a Diana De Marchi grazie a Alessandro De Chirico grazie ad Ambra Fiette e Silvio Valsecchi in regia grazie a te noi due ci vediamo venerdì prossimo ricominciano i quartieri e i municipi e andiamo avanti ovviamente anche con la politica tradizionale buonanotte